Questo programma è offerto da... Scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Angolo di Alucento, Torino. Scegliete voi. Scegliete voi. Scegliete voi. Scegliete voi. Buongiorno, buongiorno. Sei stranamente vivo? Di solito quando registriamo sei abbastanza sul dormire. Diciamo che oggi non è stata una bellissima giornata che mi ha tenuto sveglio. Ah, come mai? Si può dire. Beh, allora vabbè, una cosa te la dico fuori onda, l'altra essenzialmente ho scoperto che il mio bellissimo computer in questo momento ha un difetto di fabbricazione e devo aspettare sabato prossimo prima di poterlo dare in manutenzione. Sei andato dai Genius, diciamo. No, i Genius non ci sono. I Genius non si sa neanche quando torneranno. Sono ancora in quarantena, diciamo, i Genius. Sono ancora in quarantena. Gli Apple Store sono chiusi fino a data da destinarsi. Sì, esatto. Va detto, da quanti anni ha questo PC? Pochi, pochi. Ah, pochi ancora, però è fuori garanzia. No, le due o tre anni al massimo. Però è fuori garanzia, presumo, essendo... È fuori garanzia, però questo problema è riconosciuto ufficialmente da Apple e l'anno scorso hanno detto che le riparazioni per questo... Eh? Praticamente si piega lo schermo, sostanzialmente. No, non si piega lo schermo, è un'altra cosa, in realtà. Ah, ok. Praticamente i... Detto in maniera veloce, i connettori, i cavi che ci sono quando apri lo schermo che fanno la retroilluminazione, sono troppo grossi. Ah! Quindi, aprendo e chiudendo, dopo un po' si rompono. Si rompono, perfetto. Buono sapere! Esatto. I Mac tra il 2016 e la prima parte del 2018 sono tutti così. Bene. Molto bene. Dopo il 2018, dopo il 2018... Contando anche che sono costati, che essendo roba della Apple costa come un rene, probabilmente... Esatto. Dopo il 2018, praticamente, cosa hanno fatto? Questi due cavi sono stati ridotti di... Non mi ricordo se due millimetri o due centimetri e non danno più problemi. No, sarà due millimetri, due centimetri e tanto, effettivamente. Due millimetri e non danno più problemi. Eh beh. Beh, è bene. Adesso... Adesso vediamo cosa ti fanno, praticamente. Se ti danno un PC nuovo, cioè un Mac nuovo, anzi... No, penso che mi cambieranno... Penso che lo darò dentro, tengo un dio lì una settimana quello che è, mi cambiano la roba. La porta, le porte dietro, le porte dietro. La rottura di balle è che io con questa cosa ci lavoro, quindi... Sì, 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 sì. Eh beh, immagino che sia una roba piuttosto scomodo. Già è scomodo stasettimana, figurati la prossima. Eh beh, esatto. Però non siamo qui. No, una cosa volevo dire prima di iniziare. Dica, prego, vada. È un momento serio, visto che settimana scorsa purtroppo è venuto fuori il discorso e non pensavo che poi sarebbe riproposto. Sì. Se pensate che esistano delle razze, che ci siano delle razze superiori e inferiori o tutte queste cagate qui... Sì, diciamo che non è stata una bella settimana. L'abbiamo nominata in combinazione questa settimana in America che è successo un disastro, quindi... Esatto. Se pensate che queste cose siano giuste e tutto il resto... Non sentite il nostro programma, cioè... Come ha detto Eric la settimana scorsa per Aisha Romano, spegnete questo podcast e andate raffanculo. E ascoltate altro, molto semplicemente. Ci sono podcast che probabilmente sono più adatti a voi da quel punto di vista. No, combinazione. L'abbiamo nominata la settimana scorsa la questione del razzismo. Direi che questa settimana è riesplosa in tutta la sua drammaticità con il caso di George Floyd negli Stati Uniti, che è un caso oggettivamente vergognoso. Sulla violenza, sulle manifestazioni che sono in corso non solo a Minneapolis ma in giro negli Stati Uniti, è dura esprimersi perché alla fine si possono... È una situazione secondo me molto controversa e molto difficile da... È una situazione, scusa, nella quale è molto difficile trovare un equilibrio perché... Da un lato la violenza non giustifica violenza ed è una cosa che comunque è vecchia come il mondo. Dall'altra, se per esempio le persone afroamericane mi dicono è ok, sì, però abbiamo manifestato pacificamente per tutti questi anni, non è mai cambiato un cazzo, forse forse l'ora di essere anche un pochettino più violenti è anche giustificata. E onestamente lo capisco, magari non lo condivido ma lo capisco onestamente come discorso. Perché comunque effettivamente siamo nel 2020 e comunque continuano episodi di questo tipo. Perché comunque George Floyd è un caso clamoroso perché è uscito il filmato e le proteste arrivano perché comunque questo poliziotto non aveva pagato fino a quel momento, l'hanno arrestato, guarda caso, dopo le manifestazioni. Esatto. Ma anche solo un altro esempio. Il giornalista della CNN è stato arrestato in diretta praticamente. Sì. Giovedì mattina italiana che però era giovedì... Giovedì, cos'era? Era verso le 5 credo. Sì, sì. A Minneapolis e lo arrestano e guarda caso chi è che vanno a prendere il primo quello quello che di colore è ispanico, diciamo come... Mentre il suo operatore che era bianco non lo... Esatto, li ha lasciati in pace e li hanno presi in un secondo momento. Sarà un caso però, insomma, mi sembra profilazione rafferente. Quindi comunque c'è un grosso problema da quel punto di vista. Sì. Diciamo che Presidente degli Stati Uniti non aiuta da quel punto di vista perché uno che dice... Qual'era la frase che ha utilizzato? Quando iniziano le razzie, iniziano le sparatorie, sostanzialmente. Praticamente ha detto, se voi fate razzie, io autorizzerò la polizia a spararvi. La frase che ha usato però è una frase che era stata usata negli anni Sessanta da... A Miami, combinazione da un politico che aveva vistose simpatie razziste. Quindi comunque è una frase che ha gettato ancora più benzina sul fuoco da quel punto di vista. Tant'è che Twitter, che ormai è in guerra col Presidente degli Stati Uniti, ha... Non dico... Non ha bloccato il Twitter perché non l'ha bloccato, però l'hanno oscurato parzialmente. Ha detto, se volete vederlo, cliccate qui. Però è un tweet che noi non condividiamo. Lo lasciamo perché comunque è una persona di spicco, perché comunque è Presidente degli Stati Uniti. Però non ve lo facciamo vedere perché noi non condividiamo questo invito alla violenza dato dal Presidente degli Stati Uniti. Quindi è una situazione molto, molto controversa negli Stati Uniti. Che con il wrestling in teoria non ha niente a che fare. In realtà ha a che fare anche col wrestling. Perché comunque nelle ultime 24-48 ore sono comunque arrivati numerosi attestati di sostegno al movimento Black Lives Matter da parte anche di un wrestler. Anche tutto sommato abbastanza insospettabili. Tipo... Non perché fossero... Avessero simpatie contrarie al movimento, però per esempio Ria Ripley non mi aspettavo, onestamente, di essere sul sostegno. Invece ha sgitto Black Lives Matter. Ria Ripley è sposata con un uomo di colore. Ah beh, giusto, è vero. Dimenticavo anche questo. A me, come ben ha detto una nostra amica comune... Sposata con Vive non si è mai capito in realtà. Però vabbè, non cambia niente a questo. Come ha ben detto una nostra amica comune, che credeva di essere nella Twilight Zone quando ha visto quel tweet e io condivido questa cosa, quando ha visto il tweet di Randy Orton. Randy Orton ha detto... Randy Orton che solitamente non si espole poi mai. Cioè, Randy Orton ha scritto cos'era? Black Lives Matter o qualcosa del genere. Black Lives Matter. E poi gli hanno risposto con All Lives Matter che è praticamente la risposta repubblicana sostanzialmente a quel, diciamo, a quel movimento. Non voglio dire abbastanza di stampo razzista, però può essere interpretato anche in quel modo. È molto paracula, esatto. Come Blue Lives Matter riferito ai poliziotti, che è altamente paracula come frase. Randy Orton ha detto, sì, è vero, All Lives Matter vuol dire tutte le vite sono importanti. Sì, è vero, tutte le vite sono importanti, ma l'ho capito solamente quando mi sono reso conto che comunque le vite delle persone di colore sono comunque importanti. Ed è un buonissimo attestato. Cioè, è una buonissima autocritica, anche se vogliamo, da parte di Randy Orton. Desmond Monroe, che è un wrestler delle indie, ha scritto su Twitter che ha ricevuto dei messaggi tramite Facebook di promoter che sostanzialmente gli hanno detto ti conviene, diciamo, calmarti un po' per quanto riguarda i tuoi messaggi di sostegno a queste proteste perché potresti perdere dei booking. Immediatamente gli ha risposto Mustafa Ali, che non vediamo in televisione da un po' di tempo, in WWE ha detto, non stare in silenzio, continua a fare quello che devi fare, se la cosa comunque, quando tutto ripartirà, se la cosa comunque, se tu credi che questa cosa comunque ti abbia danneggiato dal punto di vista dei booking, fammelo sapere, perché sono sicuro che la freelance wrestling, con la quale comunque io ho un ottimo rapporto e con il quale comunque ho, diciamo, una certa amicizia, sarebbe molto felice di averti e non solo il booking te lo copro io. Quindi anche Mustafa Ali, che è in una situazione anche molto particolare perché comunque, possiamo dire, Mustafa Ali è, diciamo, atleta di colore, anche se tecnicamente non è proprio così. Beh, è musulmano dichiarato lui. È musulmano, esatto, è musulmano e quindi è in una situazione ancora particolare perché comunque le persone di colore negli Stati Uniti hanno ancora questa situazione ma anche i musulmani non è che si sono proprio trattati benissimo, diciamo. Esatto. Diciamo, Eric, tutte le persone che non siano bianche in America, hanno problemi di razzismo. C'è, diciamo, c'è questa storia del cosiddetto white privilege che comunque... Esatto. Nonostante ci siano persone che lo neghino, è evidente che comunque c'è. Ma c'è anche da noi, eh, c'è anche comunque qua in Europa, assolutamente, un problema di questo tipo. No, mi fa piacere vedere comunque il wrestling che supporta le proteste, quantomeno. Ma ripeto, per questo episodio che è oggettivamente vergognoso. A me fa anche molto piacere vedere insospettabili che scrivono certe cose. Vero, 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 assolutamente. Orton che scrive certe cose... Non te l'aspettavi. Non me lo starei mai visto. Esatto. Orton su queste cose se ne è sempre sbattuto le balle. Un altro che è insospettabile, ma nemmeno poi tanto alla fin fine, perché comunque lui ha sempre avuto simpatie di quel tipo dal punto di vista politico, è Kevin Nash. Kevin Nash è un altro che comunque ha scritto in questi giorni messaggi di sostegno praticamente a queste manifestazioni, magari non alla violenza ovviamente, però di sostegno comunque alla battaglia contro il razzismo nelle forze di polizia, che comunque c'è, purtroppo c'è. Noi vorremmo arrivare a un punto in cui non so come coniugare un italiano. Comunque, vorremmo arrivare a un punto dove non si sia più costretti a dire sì, i poliziotti sono tutti buoni, ma ci sono le mele marce. No, non ci devono essere le mele marce in polizia, ma ci mancherebbe... Nelle forze dell'ordine di tutti gli stati, anche nel nostro, vorremmo non arrivare al punto di continuare a dire sì, ci sono le mele marce. No, non ci devono essere le mele marce, perché comunque ci devono garantire il nostro ordine, ci devono garantire la nostra sicurezza da polizia. Il fatto che purtroppo esistano tra gli agenti di polizia persone che pensano di essere al di sopra della legge, perché loro sono la legge, è uno schifo. È grave, è molto molto grave anche tra l'altro. Purtroppo ne abbiamo avuti diversi esempi. Guarda Cucchi, guarda il povero Aldrovani e tanta altra gente. Basta solo andare a vedere quello che è successo a Diaz nel G8. Vabbè, passiamo oltre. Mettiamo di più la di politica, però ripetiamo. No, no, non è una questione politica in questo caso. È chiaro che comunque in America, negli Stati Uniti, la corrente Black Lives Matter è comunque molto più vicina a un movimento politico. però credo che sia, che sono i democratici rispetto ai repubblicani, i repubblicani non mi pare siano molto di sostegno da quel punto di vista, per corrente politica. Però quello che volevo dire è che comunque... Non ho perso il filo del discorso che volevo fare. Niente, mi verrà in mente. No, volevo dire che comunque è vero che i Black Lives Matter sono più vicini magari a una corrente politica rispetto ad un'altra, però non è un problema politico questo, perché comunque il razzismo non dovrebbe essere un problema politico. In realtà lo diventa, in realtà assolutamente lo diventa, in questo momento specialmente negli Stati Uniti, perché comunque da, diciamo, diversi anni a questa parte la situazione si è ulteriormente acuita. Diciamo da quando Barack Obama è diventato Presidente degli Stati Uniti, perché comunque la situazione è peggiorata, che è brutto da dire perché non è colpa di Obama, ma però è la risposta, diciamo, bianca a un Presidente nero sostanzialmente, e poi da lì con Donald Trump la situazione è ulteriormente degenerata. Più che degenerata diciamo che sia ulteriormente acuita, perché comunque è sempre stata presente sotto traccia nella realtà americana. Comunque, per chiudere il discorso, se siete d'accordo con queste cose qua, spegnete sto podcast. No, beh, se siete d'accordo con quello che diciamo noi. No, no, se non siete d'accordo con... Ah, ok, sì. Nel senso, intendo, se siete d'accordo con la visione... Esatto, se pensate che le forze di polizia debbano essere razziste con forti dei neri, prendete e andate ad ascoltare un altro programma, cioè molto gentilmente, perché comunque... Ma neanche molto gentilmente, aggiungerei anche. Se pensate che il razzismo sia una cosa giusta, mettiamolo in questa caniera. Esatto. E via. Ma buono. Passiamo oltre, passiamo oltre. Io comincerei, visto che manca Gianluca che arriverà più tardi, perché mi hanno messo giù adesso. Io comincerei anche da SmackDown, per motivi di freschezza, quantomeno dal punto di vista della visione, perché è stata una puntata molto strada di SmackDown. Sì, a me non è neanche spiaciuta più di tanto, sinceramente. Allora, ci sono state robe che mi hanno lasciato molto perplesso, cioè non a livello di booking intendo, però a livello di visione, quantomeno. Quello di Mandy e di Otis. Cominciare da quello, la fin fine. Allora, a me, io non so se tu l'hai visto, a me ha ricordato tantissimo la scena del film DJ Silent Bob. Sì. Quando loro sono... L'ho vista citata su Twitter, una cosa del genere. Esatto. Loro sono nel fast food. Sì. E praticamente entra l'interesse amoroso di Jay. Sì. E Jay vede praticamente... Vede lui stesso che va da lei e inizia a limonarla duro. Sì, ma le scene... C'è una scena del genere forse anche in fusi di testa, forse una cosa di questo tipo nel primo film. Sì, sì. delle commedie specialmente, diciamo, quelle un po' pochettino pecorecce americane. Quindi ci sono scene di questo tipo. Ah... Non so neanche cosa dire, francamente, su questo... Su questo... Allora, dipende tutto da cosa... Allora, a parte... È stata strana questo... Aggiungo una cosa. Allora, aggiungo una roba. A parte che quando ho visto Otis che metteva la lingua e Mendy che rispondeva mettendo la lingua ho detto... Attori... Attori... Mettono Stadislavski, eh. C'è proprio... Calarsi perfettamente nella parte. Io dico una cosa. Io dico una cosa. Se si mettono insieme davvero, Mendy diventa la mia eroina, eh. Darebbe speranza... Darebbe speranza a molta gente. Darebbe speranza al mondo. In giro per il mondo. No, ma più che altro... Anche perché... Se tu hai visto la live su... Quando l'hanno fatto la live su... 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 Su Instagram. Su Instagram. La madre adora Otis. Sì. La madre di Mendy lo adora Otis. Quindi... No, c'è questa amicizia molto strana che è nata evidentemente ai tempi di NXT che tra... Sì. Tra i due che comunque ha preso una direzione abbastanza imprevedibile. Nel senso che dall'amicizia, dai segmenti, diciamo, dalle immagini e tutto il resto su Instagram si è arrivati a una storyline che comunque va avanti da cinque mesi praticamente. Perché comunque è iniziato intorno a Natale. E tra l'altro... Cioè... È un'idea tra l'altro parte della stessa Mendy. Cioè comunque la stessa Mendy Rosa ha proposto comunque ai piani alti di fare qualcosa comunque con Otis. Perché comunque gli sarebbe piaciuto portare questa... Questa cosa... Questa cosa on screen. E va detto che ha funzionato. Perché comunque è stata una delle parti migliori di SmackDown per... Per un po' di tempo questa parte. Adesso tra l'altro la storyline... La storyline tra Mendy e Sonia mi sa che è finita praticamente. Perché comunque con le due vittorie di Sonia Deville... Adesso Sonia ha iniziato un'altra cosa e Mendy è in piscina. Allora... In piscina praticamente con Otis. Il segmento di Otis e di Mendy può andare in due direzioni in questo momento. Sì. O... Perché per come... Allora... Se tu vedi... Analizzando il segmento come può essere... Sì. Tu vedi Mendy che è totalmente innamorata di Otis. Sì. E ha una visione molto... Esatto. Però di un'altra visione di Otis. Esatto. Di un'altra visione di Otis. Bravo. Esatto. Perché la cosa... La roba che succede praticamente... Potrebbe essere tra virgolette l'inizio di Mendy che realizza che forse Otis non è la persona per lei. Esatto. Non è quello che c'è. Esatto. Non è la persona che vuole. Anche se alla fine quando poi... Alla fine in piscina si vanno quindi... Esatto. A far cose mettiamola così. Vai. Esatto. Quindi vediamo può andare in due direzioni essenzialmente questa... Per ora questa... Questa storia. Questa cosa. Esatto. Vediamo cosa... Vediamo cosa fanno. Sonya Deville invece in questo momento è impelagata con Lacey Evans. Ha iniziato questa... Questa file è bellissima il segmento backstage. Se l'hai visto? No. A livello di recitazione è notevole diciamo. No. Ah sì sì. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Quando lei ha fatto il tramo e lei è arrivata Lacey Evans alle spalle a dare una spinta praticamente. Più che altro volevo farti una domanda, Eric. Vai, dimmi. Sì. Ma è... Broken Sonia adesso che si è tradita da Mendy. Non lo so, guarda. E al posto di Delete urla Deville. No, non urla Deville, affortunatamente. Però l'abito effettivamente ricorda... È un misto tra Undertaker in versione Lord of Darkness e effettivamente Broken Matardi. Sì. Sì. Sia in versione Woken che... Sai cosa? Forse... Forse... Forse più Undertaker perché forse questo... Questo... Perché l'abito di Matardi è più sul rosso che non sul nero. Sì. Mettiamola così. Ok. La puntata si è aperta praticamente. Tra l'altro si è massacrato questo segmento su Twitter. Non so se hai visto i tweet che... Allora... Diciamo che... Gli ha fatto molto ridere. La bottiglia aperta e praticamente l'abitacolo intonso e non pieno d'alcol. E il poliziotto che chiamava il nome di Jeff Hardy, cito testualmente, come si chiamasse i numeri. Come se... Come se stesse chiamando i numeri al bingo. Che effettivamente è vero perché comunque... Trovano il documento e fanno... Jeff Hardy! C'è per caso un Jeff Hardy in zona? Che mi ha fatto effettivamente abbastanza ridere. Allora... L'Engle va dentro. L'Engle va dentro. È di... Di cattivo gusto perché comunque c'è una situazione reale. Avevamo parlato tra l'altro... Cioè si era parlato... In combinazione se ne è parlato anche nel video di Maxi Sosso. Che se non l'avete visto ve lo consigliamo. Sì. La depressione nel wrestling. La depressione nel mondo del wrestling. Eh... Si prende praticamente una situazione reale. Che è quella praticamente di Jeff Hardy e dei suoi incidenti. O comunque dei suoi arresti per stato di ebrezza alla guida. E lo si fa diventare una storyline. La differenza per esempio rispetto alla questione di Edge e Randy Orton. Con i pesi a Wrestlemania che ha ricordato il caso Benoit. E l'annegamento di Matardi. Sabato durante lo studio Stampede. La differenza sostanziale è che qua comunque c'è direttamente la persona coinvolta. In questa... Sì. In questa storia. E in teoria quindi... Se a lui sta bene... Va benissimo. E poi... Sì. Aggiungi... Con l'angolo di Paul Bearer con i figli che pare fossero d'accordo. Quando hanno fatto l'angolo con CM Punk. All'inizio poi pare... Cioè... I figli di Paul Bearer non si è ben capito. Più che altro perché alcune volte... Allora all'inizio avevano dato l'ok. Sì. E poi se ne sono pentiti dopo se non sbaglio. Ok. Più che altro quando... Loro condannarono tantissimo il segmento quello con Punk che prende le ceneri e se le spalma addosso. Ah ok. Sì. Comunque... Vai. Volevo dire... Secondo me il problema in questo... In questa scelta che hanno fatto è essenzialmente che nella settimana dove c'è la protesta per gli arresti, per certi tipi di arresti... Ma non credo francamente sia quello il problema. Cioè io non ho fatto onestamente quel collegamento. Ripeto... La cosa di cattivo gusto è che comunque si prende una situazione vera... Comunque di una persona che ha avuto problemi anche grossi... Con situazioni di questo tipo in passato... E lo si faccia diventare un angle. E' vero che è coinvolto anche lui... Quindi comunque... Diciamo da un lato ha il cattivo gusto... Dall'altro comunque se lui è d'accordo ok... Io alzo le mani. Però ripeto che a livello di gusto... Non è propriamente la scelta migliore. Comunque... Escludendo il discorso del cattivo gusto... Rimane da chiederci... Come andrà a finire adesso questa situazione. Perché... Io ho un'idea su questa faccenda. Cioè... La storia di Dan è... Sostanzialmente è chiaro che l'hanno incastrato. Perché comunque... Poi è tornato... E' tornato a fine puntata... E hanno anche detto che lui comunque... Il test di sobrietà alla stazione di polizia... L'ha superato. L'ha passato... Tranquillamente. Quindi c'è da capire chi l'ha incastrato. Perché in teoria... In teoria... Sembra che vogliono... Anche per l'attacco... A fine... A fine show a Seamus... Pare che vogliono comunque farti... Farti indirizzare la tua attenzione su Seamus. Io ho la sensazione che non sarà Seamus quello che sarà rivelato alla fine... Come diciamo... Come il grande vecchio di questa... Di questa faccenda. Secondo me sarà AJ Styles a essere rivelato. Visto che tu me l'hai detto... Sì. Io ho fatto... Mentre stavo camminando prima per andare nel posto dove dovevo andare... Ok. Sì. Visto che tu ci avevi detto questa mattina... Ho fatto un ragionamento... Sì. E tu hai detto... In effetti può anche essere giusto. Però adesso mi viene una domanda... Mi sorge una domanda. Ok. Perché AJ non voleva affrontare... Perché AJ non dovrebbe aver voglia di affrontare Jeff? Perché è un campione... Perché è un godardo sostanzialmente. Il motivo è molto semplice. Ok. Però comunque va a affrontare Daniel Bryan. Andrebbe a affrontare... No. Perché sostanzialmente voleva... Voleva arrivare in finale riposato. Mentre invece Bryan avrebbe dovuto... Però è Bryan che... Ok. Ah ok. Quindi incastra i due persone... Esatto. Cioè l'idea era sostanzialmente tenere fuori due potenziali avversari. Ok. Che sono praticamente Elias e in questo caso Jeff Hardy. Jeff Hardy. Perché ti spiego il perché di questo dubbio che ho. Per il semplice fatto che comunque... Lui non mi ricordo quanti... In WWE se non sbaglio non ha mai affrontato Jeff Hardy. Non voglio dire una stronzata. L'ho affrontato in TNA sicuramente. In TNA non lo trovo perché io ho... Allora in TNA mi ricordo... Mi ricordo un match del 2002 credo. Se ricordo bene. Dopo che praticamente Jeff Hardy fu licenziato dalla WWE e poi andò nei paper view settimanali della TNA per un certo periodo. Non durò tanto questa cosa. C'è comunque... C'è un Age of Stars contro Jeff Hardy. Sto contando su Cage Match eh. Vedo un attimo se mi trova qualcosa. Vai. Allora no. Quello che volevo dire era questo. Perché dovrebbe... C'è anche un match... C'è anche un match a Raw credo. Se ricordo bene. Non ne trovo. Su Cage Match non ne trovo di me tra Jeff e AJ eh. Adesso cerco. Cerco io. Cerca anche tu magari. Cerco io. Sicuramente uno me lo ricordo in TNA. Sicuramente. Però parliamo di TNA ai tempi dei lici settimanali. Attenzione. Non parliamo diciamo di... Non parliamo diciamo di TNA. Però più che altro. La domanda è. Lui ha comunque fatto fuori. Sì. Jeff e Elias. Ah no. Eccoli qua. Li ho trovati. Li ho trovati un po'. Sì. Allora. Ma già parte sono tutti... Live event. Live event. Tutti nei live event. No. L'ha affrontato nell'Elimination Chamber che poi ha vinto Daniel Bryan. Quindi non conterei. Vedi. Ah no. Corrego quello che ti ho detto. In realtà è il 2004. Cioè è il pay per view della... No. NWI TNA 103. Il proprio primo. 23 giugno 2004. Sì esatto. 23 giugno 2004. Comunque ci sono dei confronti. In WWE non si sono... A parte ha uscito... Davide Abrino. Davide Abrino. Davide Abrino. Uno contro uno non si sono mai affrontati. No. Ti facevo questa domanda per questo motivo. Vai. Eh... Perché... Il tuo ragionamento secondo me poteva anche funzionare. Ok. Se... Eh... Se... Magari... Lui... Aveva... Non aveva mai battuto Jeff. Non aveva mai battuto Jeff. Quindi aveva paura di sconfittire... Di andare contro Jeff. Perché poteva perdere. Sì. Però contro Bryan aveva vinto. Mhm. Però in WWE... EJ non ha mai battuto Bryan. Cioè una volta è riuscito a battere Bryan. Credo che l'idea sia. Ok. Faccio fuori sti due. Eh... Faccio fuori praticamente Elias e Jeff Hardy. Bryan è talmente coglione che deciderà comunque di mettersi in gioco. Perché comunque lui è il campione senza macchia. E io comunque mi prendo il... Diciamo mi prendo il... Mi prendo la possibilità di andare. Ok. Può essere. Oppure... Oppure semplicemente diceva. Ok. Eh... Li metto fuori tutte e due. E Bryan anche lui accetterà. E ci facciamo praticamente la settimana di vacanza. Non so. Credo che sia più la prima. Cioè comunque... Un AJ che sapeva che alla fin fine Bryan avrebbe comunque fatto qualcosa per... Per guadagnarsi la sua... Eh... Guadagnarsi la sua shot. Comunque sì. Diciamo che di base c'è... Come al solito se andiamo a cercare... Perché... Cioè... 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 Perché... Scemo sostanzialmente dovrebbe andare contro Elias. Cioè... Perché avrebbe dovuto menare anche Elias. Alla fin fine. Cioè... 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 Hej mi sembra più una... Diciamo una... Una macchinazione. Perché... C'è quella frase che lui ha detto Bryan. Che mi lascia... Che mi lascia... Cioè il modo in cui l'ha detta anche tra l'altro. Sì. Sì. Che sei uno stupido. Davvero non ti sei reso conto? Davvero non ti sei reso conto? Minchia, sei veramente un'imbecilla allora. Cioè... E quello che... E quello diciamo... E' quello diciamo che mi... Che mi ha... Diciamo lasciato particolarmente sospettito. rispettito, e poi va detto, sarebbe anche probabilmente una soluzione un pochettino più fantasiosa rispetto al semplice Sheamus, che probabilmente sarà il match di Man in the Bank, no di Man in the Bank, scusami, di Backlash, scusami, quindi sarà un altro dei più grandi match di sempre, dipende se sarà nel pre-show, all'altro voglio farti notare una cosa, hai notato che adesso nella pubblicità di Backlash mettono Joe che dice potrebbe essere il più grande match di sempre, ma c'è un'altra frase che hanno cambiato se hai notato ieri sera a SmackDown, che non ha niente a che fare con il famoso presunto match più grande di sempre, non so se te ne sei accorto, all'inizio quando ho mostrato il pubblico, e Michael Cole dice che sono stati testati o gli è stato detto di mettersi a sei piedi di distanza, a Roma mi hanno detto che erano stati testati, quindi probabilmente visto che sono stati sgamati, che non è vero che li hanno testati praticamente questi qua, che ha messo tra il pubblico, si sono inventati, l'hanno redattato in questo modo, ok, o accettavano di farsi mettere a sei piedi di distanza, cioè a due metri praticamente l'uno dall'altro, o praticamente li abbiamo testati, che è praticamente un modo per dire non li abbiamo testati, li abbiamo messi a distanza praticamente, perché comunque è nata questa polemica dopo Raw del fatto che comunque la WWE pare che non li abbia testati quelli che hanno messo tra pubblico, e pare sia venuto fuori che infatti non è vero, non li hanno testati, comunque vabbè, è un altro discorso. Tornando a SmackDown, abbiamo però la finale per ritrovare il titolo intercontinentale che non sarà Backlash, sarà due giorni prima a SmackDown, tra l'altro il match è già stato registrato da quello che ci risulta. È molto strano, tra l'altro, io l'avrei messo in pay-per-view. Credo che sia probabilmente per tenere il pay-per-view in una certa durata, probabilmente. Sì, può essere. Io spero che gli deno tanti minuti a questo match a SmackDown. Anch'io, cioè AJ e Brian possono fare benissimo. Pare che, diciamo, da voci che girano, perché l'ha fatto uscire Sean Rosset, questa cosa che l'ha già registrato, pare che il match, il titolo intercontinentale, sia incredibile, però vediamo. La madonna! Speriamo che sia... Allora, sono loro due, quindi te lo devi aspettare che sarà un grande match. Sì. Però, cioè, non darmi questo hype. Immaginati se questo, cioè, da quello, diciamo, come posso dire, da quello che è circolato poi a livello di... dalle persone che erano di presente, naturalmente. Tornando a, diciamo, tornando a quello, credo che fosse... E credo che l'abbiano messi a SmackDown per, comunque, per dare, diciamo, più spazio al... Per tenere in pay-per-view entro una certa durata, probabilmente, perché pare... Però, allora, in questo momento... La card ha, tipo, mi sembra 5 match il pay-per-view in questo momento. Eh, un sesto match potevi metterlo dentro, eh. Eh, lo so, però se lo metti in pay-per-view comunque devi dargli minutaggio anche quello, quindi comunque quello aumenta, aumenterà la fin fine della durata. Sì. Probabilmente... Vabbiamo a vedere quanti match avevamo in The Bank a 2020. Ah, 6 o 7, credo. Non ne aveva tanti, eh. No, no, ma mi ricordo che non ne aveva tanti, però voglio vedere quanti ne aveva, giusto per... No, ricordo il numero... Faccio un'idea. Il numero preciso. Adesso, te lo dico. Eh, 8 match. 8 match, sì. Aveva. Più il pre-show. Quindi 9 match. No, 8 match col pre-show, quindi 7 match. Quindi 7, esatto. E va detto che il settimo match... Però, magari... C'è un Bobby Lash con torato che dura 3 minuti. Sì, 3 minuti, esatto. Quindi, alla fine, infine, c'è anche un match che è durato molto, molto poco. Gli altri, va detto che hanno avuto una durata decente, perché abbiamo avuto 13 minuti, 12 minuti, 12 minuti, 20 minuti, 23, 28. Quindi, alla fine, c'è stata una buona durata. Vediamo adesso come la risolviamo. Al momento, tenendo conto che mancano due settimane al pay-per-view, mancano qualche... Io ci penso manchi all'appello per quanto riguarda questo show. In questo momento ne abbiamo 4 di match annunciati. Allora, io aggiungo... Allora, mi metto già in card qualcosa con Rey Mysterio e Seth Rollins, magari un Six-Man, cioè Rollins e i due discepoli con Alistair Black, Carrillo e Rey Mysterio, probabilmente. Sì. E poi... E poi... Boh, non saprei onestamente cosa... Magari... Magari o l'implosione tra Garza e Andrade, però non ce lo vedo. Mmm, è roba da pre-show, ovviamente. No, è roba da pre-show, sì. Al massimo, al massimo, al massimo. Vediamo che cosa si inventano. Però mi... Cioè, io personalmente avrei messo Stice e Brian in pay-per-view. Poi ho... No, no, anch'io, anch'io, onestamente. Sono a SmackDown, ho le mani, va bene. Basta avere... Ecco, il problema, diciamo, che comunque, se tu metti un match del genere a SmackDown e lo metti, per esempio, alle... Non so, gli dai mezz'ora, praticamente, mezz'ora, 35-40 minuti, rischi che la gente, praticamente, guardi d'inizio, vada a vedere alto per mezz'ora e poi ti metti alla fine. Che è sempre meno male quello che succede in match di questo tipo. L'unica eccezione è stata, paradossalmente, negli ultimi anni, è stata in AEW con l'Iron Man Match. L'Iron Man Match ha guadagnato, addirittura, quello tra Pac e Kenny Omega. Durante il match ha addirittura guadagnato Ascolti, che è una clamorosa eccezione, vai. Ho un match che potresti aggiungere in card, contando. Le Blizzcross contro le Iconics contro Sasha. Quello sì, quello sì, quello probabilmente lo vedremo, pensandoci. Cioè, tre po' freddi copia, qui direi. Tre po' freddi copia, esatto. Perché penso che le Iconics arriveranno a romper le scatole, poi, a venerdì prossimo nella difesa titolata. Quindi, cioè, quel match lì finirà probabilmente in no contest, o comunque si metteranno qualcosa, e poi si arriverà al match a tre, al pay-per-view o a Backlash. Diciamo che sulla carta questo Backlash non mi ispira granché, almeno per il momento. No, ha un match che a me che mi ispira tantissimo, infatti. Che è Lashy contro McIntyre. Lashy contro McIntyre. Per il titolo WWE. Sì, sì. Edge contro Randy Orton, io rimango dell'idea che sarà un match cinematografico, Edge contro Randy Orton. Cioè, il fatto che adesso, ripeto, il fatto che adesso utilizzino la film song di The Greatest Show, The Greatest Showman, anzi, scusate. Il fatto che comunque lo definiscono il miglior, cioè il potenziale miglior match di wrestling di sempre, ovviamente finisce in dieci secondi con l'archeo di Randy Orton e finisce lì, o sarà una roba cinematografica, probabilmente. Dovesse dire. Il problema, se vogliamo, è che ci sarà un match cinematografico già la settimana prima, perché Adam Cole contro The Greatest Dream sarà... Dovrebbe essere cinematografico, sì. No, l'ha già registrato, quindi probabilmente ci sarà quello. C'è la voce che gira, in realtà sono notizie che pare siano confermate. Sostanzialmente, tra l'altro l'ha detto anche William Regal da NXT, che comunque troveremo uno che... La location degna del titolo di NXT, che poi pare in realtà sia dietro gli studi di Full Sail, da quello che... Beh, secondo me lo faranno nello stesso posto dove hanno fatto Gagano Cole. No, secondo me lo fanno all'aperto. Gagano... Il fatto che gli metteranno le macchine vicino, secondo me lo fanno all'aperto, sto match. Cioè, comunque lo fanno dietro... Cosa è questo? Hanno detto ai wrestler di NXT di venire... Di fare carpooling, letteralmente, di venire praticamente a Full Sail per questo match. Da quello che gira hanno circondato il ring di macchine, tipo Drive-In, praticamente, che sarà una cosa anche abbastanza... Sarà la versione bastardizzata, se vogliamo, di Rod Wilde della WCW. Invece delle Harley e degli Hells Angels che fissiano i messicani, ci saranno i wrestler, praticamente, i wrestler di NXT a tifare dalla macchina o da sopra le macchine, praticamente. Sarà una cosa molto molto particolare. E niente, hanno fatto il match e lo vedremo poi domenica 7. Il match è già fatto, praticamente. Il match è già registrato e lo vedremo il 7 giugno a TakeOver In Your House, di cui parleremo tra non molto. Anche perché, tra l'altro, alla fine per TakeOver In Your House che cazzo ci ha annunciato? Non molto, in realtà, alla fin fine. Allora, c'è Gargano contro Keith Lee per il titolo nord americano. Ah no, 5 match. No, ricordavo malissimo. C'è Tommaso Ciampa contro Karyon Cross. Ne parliamo dopo, comunque. C'è Flair contro RiRimpli contro Yoshirai. Balor contro Prista, Dan Cole contro Velvet in Dream e Keith Lee contro Johnny Gargano. Quindi sì, ricordavo malissimo. Direi che la card è praticamente completa. Il fatto che, tra l'altro, per esempio, ci sarà il match per... Cosa c'è mercoledì a NXT? Hanno annunciato due match. Hanno annunciato Kenny Slare contro Mia Yim e un altro match hanno annunciato, no? Non hanno annunciato Gargano contro Lee? Gargano contro Keith Lee è annunciato, sì. Eh sì, ma io lo vedo qua in card per TakeOver. praticamente, mi sa che è un errore, probabilmente. No, settimana prossima è Mia Yim contro... Ma c'è un altro match annunciato per NXT, mi sembra. Non mi ricordo adesso quale che è. Hanno annunciato, credo, qualche altra cosa. Magari ricordo male. Ne parliamo dopo. Dovremmo arrivare anche... Non penso che lo metteranno nel TakeOver perché non c'è spazio. Quello no, quello no. Però dovrebbe essere... Prima o poi dovrebbe arrivare anche... Ah sì, no, sai cosa c'è? La finale del Torneo Cruiser. Ecco cosa mi dimenticavo. La finale del Torneo Cruiser. Esatto, esatto, esatto. Non è a TakeOver ma a NXT, ecco. Ricordo male. In NXT e... Prima o poi dovremmo arrivare anche a Imperium contro Team 1-2. Ok. Visto che sta anche stupendo la Fida. Esatto, sì. Però quello mi sa che avremo tempo dopo TakeOver. Sì, sì, direi di sì. Tornando a... Diciamo... Tornando a noi... A SmackDown. Esatto, per quanto riguarda... Esatto, per quanto riguarda il... Per quanto riguarda la SmackDown di questa settimana. Daniel Bryan ha battuto Seamus nel main event, quindi abbiamo... Ci siamo tolti quel match alla fin fine. Sì. Rimane la spada di Damocle per quanto riguarda Restylmania, cioè... Cioè, magari quel match poi vorranno proporlo a SmackDown, però intanto... Ah, credo tutto, a Restylmania, però intanto l'abbiamo visto a SmackDown. Quindi è già qualcosa. È stato, peraltro, anche un match discreto. Non eccezionale, però comunque discreto alla fin fine. Più che discreto. È stata una puntata dove di gran wrestling, onestamente, non è che se ne sia visto. No, molto meglio settimana scorsa a livello di wrestling. Perché abbiamo avuto la Battle Royale. Vedete, la Battle Royale è stata anche discreta, francamente. Anche il Shorty G contro Cesaro non è stato malissimo, eh? Sì, sì, sì. Mi ha sorpreso la vittoria di Shorty G. Nel senso, non pensavo vincesse Shorty G questo match, pensavo vincesse Cesaro. A me neanche poi tanto, nel senso che me lo aspettavo più che altro, però... Il match magari da pre-show potrebbe essere il rematch, eh? Magari per la Shorty G, sì. Uno, sono contento che almeno qualcosa Shorty G fanno fare. Sì, per due. Perché comunque Gebo e se non merita di essere uno scritto. Per due settimane, probabilmente. E due, almeno non gli fanno più tenere la casacca da basket che sembrava una... Sì, però il nome da imbecille gli è rimasto. Il nome da imbecille rimane. Shorty G praticamente, diciamo... Shorty G non te lo toglierai mai. Esatto. Non dimenticare ce l'hai per sempre. Esatto, non dimenticare... Non ti dimenticare... Sei Shorty G per sempre. Don't forget your Shorty G forever. No, vabbè, tornando a, diciamo... Tornando a SmackDown. Alla Battle Royale anche, sì, normale, alla fin fine. Aspettiamo al Varco, chi dice che la WWE ha copiato l'AW perché ha fatto una Battle Royale nel momento... Nella settimana in cui l'AW ha anche lei fatto una Battle Royale. Come aspettiamo al Varco, quelli che dicono che le due compagnie si copiano vicino. Peraltro, giustamente, perché comunque... Peraltro è vero. Peraltro è una roba strana, eh. Peraltro è vero, diciamo, che comunque le due compagnie... Che le due compagnie... No, no, a me ha fatto molto più ridere una persona con cui parlavo che, tipo, gli ho detto guarda che a SmackDown c'è il pubblico... A SmackDown c'è il pubblico... Oh, copiano l'AW. Nella settimana in cui l'AW fa Tyson contro Gerico... Fa Tyson contro Gerico... Esatto, sì. Che è un tipo... Nell'Olimpo dei segmenti della WWE. Che è una palese, diciamo... È una palese citazione, praticamente. Cioè, era palesemente quello il loro obiettivo. Cioè, comunque, loro era... L'obiettivo dell'AW era, comunque, prendere quel segmento... Alla fine, prendere, praticamente, prendere quella roba lì con Tyson... E tentare di, come posso dire... Di far cadere il fulmine due volte a un stesso posto. Poi vedremo se funzionerà, eh. Contando il seguito... Poi ne parliamo quando parliamo di Dynamite, però... Contando il seguito che comunque questa cosa in giro per il mondo ha avuto, diciamo, nei giorni immediatamente successivi all'angle che hanno fatto mercoledì... Direi che è abbastanza funzionato. Però bisogna vedere... Bisogna vedere se il pubblico arriva. Se il pubblico puoi, va a vederlo. Esatto, naturalmente. Perché, come diciamo sempre, su internet puoi avere una risonanza. Ovviamente, certo. Però se poi il pubblico non ti viene a vedere settimanalmente... No, chiaro, però per dire... Sta cosa è finita anche in Italia. Cioè, comunque, Sportman ne ha parlato, per esempio. E credo anche altri organi di informazione, credo che ne abbiamo parlato negli ultimi due giorni. Poi è vero che l'AW non è trasmessa qua in Italia, tecnicamente. C'è Fight. Però, già il fatto che comunque si sia parato, perché comunque c'è Tyson che comunque attira... È un buon segno, quantomeno. È un ottimo segno per quanto riguarda il successo. O comunque il seguito che avrà questo angle a livello di ascolti, a livello di seguito per quanto riguarda l'AW. Tra l'altro, settimana prossima, parlando di AW e NXT, NXT avrà, diciamo, metà show registrato alla fin fine. Perché comunque hanno detto, praticamente... Dipende da quanto durano questi video seguiti. Secondo me potrebbe durare anche... Contanto che sono due match e ci sono interruzioni pubblicitarie, potrebbe anche durare tutta la seconda ora. O comunque sarà sparso durante la puntata alla fine di... Perché abbiamo due match annunciati. Non vedo altri grandi... Eh, però magari qualcos'altro te lo butta un po'. Sì, è vero. Sai cosa mi sa da puntata di mercoledì di NXT? È il pressure di takeover. Cioè, mi sa di pressure di takeover alla fin fine. Beh, è gom di takeover. No, 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 non parlo di pressure, non parlo proprio di gom, ma lo parlo di pressure. Cioè, il match che metti nell'ora prima del pay-per-view per invogliare la gente a, diciamo, a comprare l'evento. Mia Yim contro... Mia Yim contro... 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 Contro Kenny Sarè. Kenny Sarè. E la finale torna a Cruze, perché comunque i Cruze sono sempre nei pressure dei pay-per-view, però. Dei pay-per-view della WWE, non tanto nei takeover, ma nei pay-per-view sicuramente lo sono. Vediamo. Vediamo cosa si inventano. Vediamo cosa si inventano. Perché l'abbiamo visto nella puntata che hanno fatto interamente con, diciamo, con filmati. Gli ascolti non li premiano, cioè, comunque... Sì, più che altro penso che la differenza sarà un'altra, che quella puntata lì era solo dedicata a questa. Questa qua comunque ha solo due filmati e soprattutto penso che saranno molto meno corti rispetto a quelli che... Cioè, Gargano Ciampa durò 40 minuti, se non di più, in quella puntata, solo il recato di Gargano Ciampa. Gli altri sono durati una decina di minuti a vicenda, al massimo 15 minuti. Penso che questi video qua, se durano tanto, dureranno 10 minuti e saranno sparsi durante la puntata. Quindi non penso occuperanno tantissimo. Però vediamo, eh. Cioè, posso anche sbagliarmi. Vediamo. Vediamo un attimo cosa succede. Tornando a SmackDown di questa settimana. Sonya DeVille contro Nessie Evans finisce in doppio count-out, perché questa faida deve andare avanti. Che culo, eh. Che ti devo dire. Tra l'altro che bella la realtà aumentata di Nessie. La realtà aumentata è un po' una sciagura di SmackDown alla fine. E' una roba di Fox, a quanto capito. No, no, è una roba della WWE. Cioè, non so se è Fox che la vuole, però... Perché a Raw non la mettono, è quello che... Però nei pay-per-view sì. Quindi nei pay-per-view... Sì, però non lo so, boh... Sì, è una roba che loro utilizzino. Credo che sia una roba che loro utilizzino, anche a SmackDown, per rendere praticamente lo show più diverso rispetto a Raw e renderlo, diciamo, magari più in linea con quello che vuole Fox a livello diretto televisivo. Il che spiega, per esempio, il diverso frame rate. Se tu guardi SmackDown in televisione, ha un frame rate completamente diverso rispetto a Raw. Raw è ripreso con telecamere normali. SmackDown è ripreso con telecamere normali, ma per motivi inspiegabili lo trasmettono con il frame rate dei film. Che è una cosa molto strana, onestamente. È una cosa che lascia perplessi guardandola, onestamente, in televisione. Momento Bliss con il New Day che viene interrotto dall'arrivo di Sasha Banks e Alexa Bliss. Ne nasce un match. Sì, per l'altro il New Day ha fatto i complimenti ai Forgotten Sons, quindi arriva il match. Sasha Banks e Bailey, scusa l'interruzione. Sasha Banks e Alexa Bliss è il match che ne nasce. C'è una foto che gira su internet che rende più... che rende SmackDown più Ultimate Surrender, che non è onestamente SmackDown. Ti cito la battuta di Simpson. Fox si è trasformata in un canale porno così che attualmente non me ne sono neanche accorto. Esatto. Su quella foto. No, scherzi a parte. Sasha Banks alla fine batte Alexa Bliss. Mi fanno sempre molto molto ridere le interferenze di Bailey, che sale sul ring, sale sull'iPhone a fare uga buga buga, per distrarre... No, in questo caso ha fatto il suono del pollo, no? Praticamente. Ha distratto praticamente Alexa Bliss... Come in Arrested Development. ...dandole del pollo. Sì, esatto. Più o meno. Vabbè, comunque vittoria da parte di Sasha Banks su Alexa Bliss, che porta poi, come detto, la settimana prossima per i titoli di coppia di WWE. E poi, vabbè, Shorty G. Cesar, abbiamo detto, e poi il main event. Direi che non c'è altro, praticamente, da aggiungere per SmackDown. Alla fine, ripeto, a livello di wrestling non è successo particolarmente molto, ma... Non è stata una puntata orribile, come altre occasioni che abbiamo avuto a SmackDown. Secondo me questa è la settimana prima, e la settimana scorsa sono state due buone puntate. Alla fine hanno portato avanti le storyline. Sì, diciamo che sono le storie... Sì, settimana prossima... Le storie sono praticamente quelle che sono, quelle che sono, praticamente. Settimana prossima avremo AJ contro... No, AJ contro Brian è tra questa settimana. Sì, sì. No, volevo dire, avremo Misty V con Stromane... Gli altri due strozzi... Buongiorno. Buonanotte, aggiungerei anche. Grazie. No, sì, abbiamo l'avvertimento di Demise Morrison nei confronti di... Nei confronti di, diciamo, di Bruno Stromane, esatto. E poi abbiamo detto il match per titoli di coppie femminili, che vedremo appunto la prossima settimana a SmackDown. Diciamo che adesso abbiamo anche probabilmente capito... Cioè, in settimana sì, anche probabilmente capito perché Barry White sia sparito, praticamente, dalla circolazione. Perché sostanzialmente è diventato papà per la quarta volta, in realtà. Perché ha due figli gemelli nati dal matrimonio precedente e due praticamente nati adesso dall'unione con Jojo Offerman. Sì, però... Che ha partorito un anno fa e è rimasto in cita subito, praticamente dopo tre mesi. Però secondo me anche a livello di storyline ha anche senso dare, che ne so, un mese di pausa a Wyatt per poi ritornare più che più in versione The Fiend. Potevi fare entrambe le cose, cioè, potevi... La settimana dopo, eh. Potevi, diciamo, farlo tornare subito, praticamente, come The Fiend, dopo la sconfitta alla fin finale di Maddie in the Bank. Hanno deciso di... Piccato perché mi riesce difficile a credere che il loro piano originale fosse dare una stato shot a Demise John Morrison, freccamente. Perché comunque... Però ti dico... Mi sembra un match molto, molto debole. Sono d'accordissimo. Però allo stesso tempo non è una brutta scelta più che altro perché due match back-to-back, il secondo match con The Fiend devi far per forza perdere Strohman. Dandogli un mese in più, gli dai un mese in più di regno titolato che non gli fa male, almeno fai finta che si consolidi leggermente e poi comunque il mese dopo lo fai perdere. Altrimenti due match back-to-back, prima con Wyatt e poi con The Fiend, rischiavi di affossare il regno titolato di Strohman. Almeno gli dai un'altra vittoria, capisci che intendo. Eccoci qua, sì, ho avuto un piccolo problema col microfono, chiedo scusa. Il mio silenzio, diciamo, era dovuto al fatto che avevo collegato male il microfono. Sì, no, il discorso di Wyatt e di Strohman alla fin fine ci può stare, effettivamente. Però, non lo so, mi lascia perplesso il fatto che queste fossero le migliori scelte, probabilmente. Ah beh, quello sì, più che altro... Questo pay-per-view alla fine. Adesso ti faccio una domanda, chi hai a SmackDown da mandare di credibile contro Strohman? No, in questo momento niente, ora... Nessuno? No, no, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. La questione era, diciamo, come posso dire... L'alternativa era dare, praticamente, come posso dire... La questione era dare, probabilmente, una... Non far perdere il titolo, probabilmente, a Strohman. Esatto. Come dicevi. L'alternativa era farlo perdere, probabilmente, effettivamente. Ah, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Parliamo di NXT, allora. Visto che comunque ci spostiamo al mercoledì sera, praticamente, a livello di news. È stata una puntata di NXT che è stata caratterizzata da quello che poi abbiamo scoperto essere l'ultimo match di Matt Riddle. Sì. A NXT perché... Ecco, non abbiamo detto di Matt Riddle a SmackDown, effettivamente. Esatto. Mi è piaciuto come l'hanno presentato, nel senso che trovo che sia una presentazione... Il video che gli hanno fatto c'ha una frase che non mi fa ben sperare a livello di... Cioè, mi spiego meglio cosa intendo, che è una cosa che ho letto oggi su Reddit ed è una cosa che condivido abbastanza. Se prendi Matt Riddle e gli dai gli script della WWE, lo uccidi, fa la fine di Rob Van Damme. Loro sì. E la frase che lui ha detto, diciamo, è particolare che il mio cognome sia Riddle perché non voglio farvi capire quello che realmente mi passa per la testa. È una roba che secondo me lui non direbbe mai, una cosa di questo tipo. E ho paura che alla fine poi veramente si diventi Rob Van Damme e parli solo a bro, whatever, cool, come diceva Rob Van Damme che non parla praticamente mai. Spero di sbagliarmi perché comunque il potenziale è altissimo con Matt Riddle. È anche vero che Matt Riddle va detto che ci mette 4 secondi a farsi odiare dal resto dello spogliatoio. Come abbiamo visto più volte, tra l'altro, negli ultimi anni. Che probabilmente è anche il motivo per cui non ero. Esatto, esattamente. Visto che Brock gli vuole tanto bene. Esatto, sì, esattamente. Però vediamo, il fatto che comunque l'abbiamo portato a SmackDown vuol dire che almeno per il momento, almeno per il momento, uno dei due tra Vince McMahon e Bruce Pritchard comunque evidentemente lo stima. Quindi diciamo che almeno all'inizio le cose comunque dovrebbero essere buone. Poi ne parliamo tra due o tre mesi. Dicevamo anche, dicevamo la stessa cosa anche di Ricochet. Guarda dove è Ricochet in questo momento. Non appare neanche gli... Secondo me lunedì lo trovi al pubblico. L'unedì lo trovi al pubblico. No, per me è una battuta. Però non mi stupirei se alla fine dovesse... L'ultima volta che abbiamo visto Ricochet era a complimentarsi con Becky Lynch, credo, nel backstage. O ho fatto un match, credo, in quella puntata, non ricordo. Non ho visto l'ultima apparizione televisiva e l'appuntata di Main Event della settimana scorsa, se ricordo bene. Non ho visto se questa settimana abbia lottato. Però fa tristezza vedere uno come Ricochet o comunque... O anche un serie di Kalexane fa tristezza vedere il Main Event. Perché vuol dire che non c'erano piavi per lui. Diciamo, tornando a NXT. Bello, molto molto bello il Cage. Alla fine è stato un Lion's Den con la gabbia quadrata, praticamente. Però diciamo che l'hanno giocato, sono giocato molto molto bene. Hanno avuto anche un buon... Sì, tra l'altro, una cosa che non ho capito... Una cosa... Dica, sì. Il sangue, secondo te, quel momento lì... Contando che sono andati in pubblicità... È vero che era registrato, però contando che sono andati in pubblicità subito... Mi viene a pensare che comunque fosse prevista come cosa... Anche i denti, secondo me, erano finti. Cioè, non mi riesce difficile credere che fosse roba vera quello che abbiamo detto. Però hanno aggiunto comunque qualcosa in pubblicità. No, no, sicuramente, sicuramente. Non lo metto minimamente in dubbio che comunque sia andata così, praticamente. No, ecco, questa settimana a Main Event non hanno lottato. Ricoscendo una... C'è stato un meraviglioso Akira Tozawa contro Shelton Benjamin, che non l'ho ancora visto. E l'ennesimo capitolo di una faida che sta andando avanti, quantomeno a Main Event, che è Ruby Riot contro... Ruby Riot contro... Oddio, chi è... Non mi viene il nome, aspetta. Contro Bianca Belair, che si sono già affrontati tipo tre volte. Ecco, Povera Bianca, che era arrivata in semi-pompa magna post-Restlemania, se la sono quasi già dimenticata, purtroppo. Io toglierei quasi. Toglierei quasi, eh. Mi sa che se la sono... È un peccato, sinceramente. Se la sono dimenticata. È vero? No, più che altro direi anche Ruby Riot, che non ha ancora vinto un match da quando è tornata, poverina. Non so cosa abbiano in mente con lei in questo momento in WWE. Cioè, lo so cosa abbiano in mente. Niente in questo momento. Perché se hai qualcosa in mente non la fai giobbare in continuazione, come giobbando lei ogni singola settimana. È vero che non lo guardo nessuno, però anche quando appare in televisione lei perde sempre. Quindi non so cosa abbiano in mente. Diciamo che le va anche male se vogliamo che in questo momento c'è una che è uguale, identica a lei, a NXT, che è Shotzi Blackheart, che non aiuta mai, diciamo, a livello di... È vero che sono in due rostre diversi, però a livello di percezione comunque in questo momento stanno chiaramente puntando un po' di più su Shotzi Blackheart, che non... che non sorrubirà, te permettendo, sono in rostre diversi, naturalmente. I rostri diversi sono guidati anche da persone diversi. Ecco, parlando un attimo di, diciamo, di NXT, di SmackDown e di Raw anche, come ti sembra la presenza del pubblico praticamente a... Allora, ne ho parlato... Cioè, non a livello di atmosfera, perché l'atmosfera secondo me è enormemente migliore in questi show con la presenza di... Io parlo proprio delle persone che ci mettono dentro. A me non spiace come idea, eh. Perché ci sono persone che comunque in NXT sono anche in... Diciamo, sono anche in storie, non voglio dire importanti, però comunque sono personaggi di quasi primo piano, quantomeno. Sì, sì. Il fatto è che comunque siano messi lì come dei... come dei signori di nessuno, praticamente, vengono definiti, diciamo, prospetti del performance center. Non aiuta la percezione, probabilmente, di NXT. Quello no. Io l'unica... Allora, l'unica che secondo me hanno sbagliato a me era i Shotzi. Perché si nota subito. Perché si nota subito per il look, esatto. Però per dire che si Catanzaro, che vedo che l'hanno inquadrato un paio di volte, alla fine che si... Però per dire c'era anche Chelsea Green ieri a SmackDown, che si intervista anche più volte. Sì, Chelsea c'era anche a Ruo, aveva la marca delle Iconics. Sì, esatto. E Chelsea Green, tra l'altro, ha fatto un angle... L'ha fatto online, l'ha detto questo angle, però ha fatto l'angle dove è licenziata a Robertson, praticamente questa settimana. Tra l'altro, sai che quando l'ho vista, quando ho visto Chelsea che si presentava, sai che il mio primo pensiero è stato... Quando è arrivata come tag team partner ho detto, in effetti avrebbe senso la cosa. Ebbè sì. Cioè, forse è l'unica tag team partner che con Charlotte aveva il suo perché. Quindi quello l'ho fatto bene, secondo me. Sì. Tornando all'NXT di questa settimana, bello il cage match. Cioè, tra l'altro hanno creato questa struttura abbastanza particolare. E il Lions Day, perché comunque anche il Lions Day aveva la struttura sopra. Credo più per le telecamere, francamente. Era rotondo però il Lions Day. Era rotondo, sì, era anche molto più piccolo, va detto, a livello di spazio. Qui c'era il ring che è stato ridotto come capienza, perché comunque hanno messo tutta questa struttura sopra, perché comunque ha ridotto un pochettino lo spazio all'interno del ring, ed è stato trattato come un match in gabbia. Poi Matt Riddle ha anche citato lo showtime kick, cioè il calcio usando praticamente la gabbia come appoggio, che è stato una... Credo che fosse Anthony Pettis quello che l'ha fatto in UFC, un bel po' di... No, era in WC, se ricordo bene, che era la compagnia... Perché inizialmente... Lo spieghiamo perché non dovevi seguire le artime teleministre. La UFC un tempo aveva acquisito una compagnia che si chiamava WEC... Guarda che si stiamo al microfono... Sì, credo fosse arrivato Gianluca, perché sentivo un altro rumore... No, credo che sono io, no, dicevo... La UFC aveva acquisito una compagnia che si chiamava WEC, dove praticamente... Inizialmente lottavano i piccoli, cioè i pesi quelli leggeri, i pesi gallo, i pesi piuma, eccetera, eccetera... E poi più avanti praticamente la compagnia è stata chiusa e i pesi leggeri, i pesi piuma, i pesi gallo, praticamente, sono stati tutti acquisiti, i pesi mostri, sono stati tutti acquisiti e uniti praticamente sotto l'ombrello dell'Alta Best Fighting Championship. La WC era caratterizzata comunque da grandi incontri tra pesi leggeri e credo in un evento di quel tipo c'è stato quel calcio lì, praticamente, cioè uno che ha vinto un match nella gabbia usando appunto la rete della gabbia come appoggio per andare con un calcio a volante. Mataridol ha citato praticamente quel calcio, è un calcio che è diventato anche molto famoso nelle gif ogni tanto si vede, tra passione di attimazioni miste. No, è stato un match molto 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 bello, molto molto divertente anche, diciamo che sono le classiche robe... Diversco! Esatto, sono le classiche robe che, secondo me, o ami o detesti, perché comunque sono talmente particolari anche come stile di lotta che magari non tutti possono apprezzare. È un match diverso, questa cosa secondo me lo ha aiutato molto. Certo! Anche poi usando le skill dei due che comunque erano coinvolti nel match, che comunque ha aiutato molto. Sono molto alte. Esatto. Tecnicamente sono uno a uno, se andiamo a vedere Mataridol e Timotel. Esatto, infatti a me ha stupito che fosse l'ultimo, non ha molto senso. Però sai cosa, nel caso di Riddolo alla fine è stata una vittoria per Rolappa praticamente, alla fine questa invece è una vittoria talmente netta che è vero che stanno uno a uno, però può essere effettivamente considerata. Contando il fatto che tecnicamente è anche arrivata, diciamo, nella specialità di Mataridol, perché comunque Mataridol è un ex UFC, quindi comunque arriva da quel mondo. Il fatto che comunque sia arrivata una vittoria da Timothy Thatcher in quel tipo di match può essere effettivamente vista comunque come la fine praticamente della loro rivalità. Però sì, tecnicamente sono uno a uno, quindi volendo avremmo potuto anche fare il terzo match, però smacano Kurt Angle. Tra l'altro con il sorriso più bello del mondo dopo, perché è andato in onda subito dopo il video di Mandy Rose e di Otis e il sorriso ebete di Kurt Angle si legava perfettamente quantomeno con quello che avevamo appena visto. Dicevo, no, ha finito praticamente Mataridol la NXT e adesso debutterà a SmackDown, vediamo quando praticamente, vediamo quando sarà il suo, diciamo il suo, il suo debutto e in quanto. E vedendolo così mi sa che un paio di settimane con le vignette le fanno. Sì, dopo il pay-per-view se ne riparla, almeno dopo il pay-per-view. Sarebbe bello, sai se fosse lui l'hacker alla fin fine? Ti immagini l'hacker fattone alla fin fine? L'hacker fattone. Beh, gli hacker possono essere fattoni. Sì, già meno, però c'è bisogno di un certo tipo di lucidità per arrivare, diciamo, per utilizzare un computer in maniera, diciamo, in maniera adeguata. Non so se un team di hacker può, diciamo, ospitare dei fattoni, quanto bello. L'utilizzo, secondo me, di marijuana o comunque l'utilizzo di fumo probabilmente non è, diciamo, non è osteggiato, mettiamola così. Non credo che siano molti fattoni, praticamente. Magari sbaglio, eh. Se abbiamo all'ascolto degli hacker che hanno, diciamo, il vizio di mettersi a, diciamo, a fare hacking sotto vistosi effetti di sostanze stubefacenti, intese come marijuana, fatecelo sapere con un, cito, cito un nostro amico, fatecelo sapere con un commento. Fate finta che io lo sto indicando, praticamente, con gli indici, una striscia invisibile, praticamente, una striscia invisibile dove lasciare i vostri commenti. Tornando alla NXT. Beh, ce l'abbiamo, la striscia invisibile, ce l'abbiamo la pagina di Facebook. Sì, lo so. Quindi potete venire lì e insultarci in casa. No, no, su YouTube, eventualmente. YouTube è più adatto. Però in questo momento non c'è, mettiamola così, non c'è. Non c'è sotto di me, quantomeno. Una, diciamo, una striscia dove puoi lasciare i commenti in diretta, in questo momento. Tornando a NXT di questa settimana, parliamo del match per decidere il finalista del torneo cruiser. Perché ci si può, secondo me ci si può molto dividere, diciamo, nel... Non è spiaciuto come... Allora, io sono indeciso... Il match non mi è spiaciuto. Il finale lo trovo orribile a livello visivo. Allora... Perché poi praticamente la storia che loro stanno portando, che hanno anche portato avanti successivamente, è quella comunque di un arbitro che ha sbagliato, alla fin fine. Di un arbitro che comunque ha fatto un errore grave, perché comunque c'è stato un errore grave. E la storia, praticamente, di un Akira Tozawa, che praticamente ha rifiutato... Di Kushida, scusami, non di Tozawa, perché Tozawa è un altro girone. Di Kushida, che praticamente ha rifiutato la possibilità di rimettere il gioco. Cioè, un Kushida che comunque ha detto, no, no, io ho perso, anche se aveva vinto. Che è una cosa che, per verità, gli fa onore, però... È una cosa un po' strana, contando la storia che stanno portando avanti. Non so cosa... O, veramente, hanno fatto questa cosa, non se ne sono accorti o non ci hanno pensato, probabilmente... E poi, guardando le immagini, mi hanno detto, cazzo... Se non diamo una spiegazione logica, questi ci massacrano, praticamente. E loro si sono inventati questa roba. O, semplicemente, non ci hanno pensato. Perché mi sembra strano che comunque, con un finale di questo tipo, non prendi e non vai a rigirarlo, questo finale. Quanto meno per evitare... Per evitare, quantomeno, il dubbio. Perché comunque, a livello visivo... Cioè, credo che sia il classico finale che loro hanno... Che loro hanno parturito... E si sono detto, cazzo... Sulla carta funziona, ma quando lo vai a eseguire non funziona più. Cazzo, una genialata, e poi lo guardi, invece... No. C'è qualche problema... Oggettivamente, secondo me, non è... L'idea non è brutta. Cioè, il fatto di sfruttare una cosa... A livello visivo è proprio brutta, perché comunque c'è un evidente schienamento alla parte di Cuscida, mentre fa la mossa di sottomissione. Quindi, c'è un problema... Ripeto, a livello visivo, quantomeno. A livello visivo, in uno sport che dovrebbe, tra virgolette, essere vero, un finale di questo tipo non ci dovrebbe stare, quantomeno. Però, vabbè... Io capisco quello che loro stavano cercando di fare. Capisco le loro intenzioni, capisco il loro, diciamo... Il loro obiettivo a livello di storia, a livello visivo, gli è venuto uno schifo, però. Questo è il mio modesto punto di vista. Peccato, perché a me è stato anche buono. A me è stato anche... Sì, sì, non è stato brutto. Cioè, è sempre il solito discorso. NXT, a livello di lottato, è uno show... È uno show più che godibile. Cioè, ha dell'ottimo... È uno show ottimo, NXT, secondo me, a livello di lottato. No, a livello di lottato. Il problema sono le storie. Cioè, almeno, dal mio modesto punto di vista, le storie, in questo momento, quantomeno, non mi coinvolgono più di tanto. Tra l'altro, il fatto che comunque Matrido adesso prende e va da SmackDown, è comunque un colpo basso per quanto riguarda NXT, perché comunque è un altro nome di punta che prende e va. E in questo momento non mi pare che ci sono grandi sostituti in quella posizione, in quel di NXT. Quindi, ok, NXT... NXT, credo che sia in questo momento in una fase di rebuilding, cioè in una fase di ricostruzione. Il problema è che ci andranno di mezzo probabilmente le storie e anche gli ascolti. Adesso vediamo... Perché faccio... Adesso lo diciamo, non so se è uno spoiler o meno. Comunque, sostanzialmente pare che il prossimo salire sarà Dominic Dijekovic. Ed è un altro che comunque... È un'assenza comunque anche quella importante, perché comunque anche Dijekovic negli ultimi mesi è stata comunque una parte importante a NXT. Non è che rimanga molto, effettivamente, a livello di nome. Sì, Gargano, Candice, Adam Cole, almeno finché rimarrà sotto contratto. Il Valentine's Dream che penso vincere al titolo. No, allora, ancora penso che rimanga. Però, vedete una cosa, a livello di timing la sua situazione è perfetta in questo momento. Perché è vero che siamo nel mezzo di una pandemia, però lui è in una tale situazione che veramente può decidere il suo futuro e può, credo, chiedere anche, può chiedere anche praticamente il mondo a livello economico, quantomeno. A livello economico. Non lo so, secondo me stanno... C'è gente... Si sta facendo fin troppe segmentali. No, lo so, però lui deve rinnovare. Secondo me ve ne state facendo veramente tante. No, discorso questo. Io non penso che andrà in AEW. Io personalmente penso che le possibilità che lui vada in AEW sono comunque minime. Detto questo, se lui è intelligente, e credo che lo sia intelligente, lo credo che sia anche molto intelligente Adam Cole, lui credo che utilizzare questi medi per mettere le due compagnie una contro l'altra. E cercare comunque di ottenere l'accordo economico più vantaggioso per se stesso. E credo che ci andrà a guadagnare parecchio anche dal punto di vista puramente economico. Credo che potrà anche chiedere magari delle garanzie, evidentemente, dal punto di vista di posizione in carta. Perché, ok, siamo NXT, ok, lui è comunque importante, però credo che a un certo punto lui voglia anche prendere e andare nel main roster. Probabilmente non lo vedo a vita a NXT con tutto il rispetto. Io credo che lo vedo in posizioni molto più alte. Allo stesso tempo, i suoi amici, quantomeno, sono comunque tutti in AEW. Cioè tutti no, però buona parte sono comunque in AEW e questo può... Inclusa... Vabbè, ma non è che in WWE non c'è amici, eh? No, non sto dicendo questo, però... Per dire, i quattro con cui è in stable sono comunque amici da una vita anche loro. Sì, no, sono d'accordo. Con Kyle, lui ha praticamente debuttato, eh? Ok, però comunque ha un certo tipo di rapporto anche con quelli che in questo momento sono... Vabbè, sì, ok, però non mi sembra che in WWE non abbia amici o comunque... No, non sto dicendo questo, evidentemente, anche basandosi su quello che dice la fidanzata o futura moglie, vediamo come sarà, che è Britt Baker, evidentemente c'è un certo tipo di rapporto con l'elite e con comunque gli elementi che in questo momento sono in fase di controllo della compagnia a livello di potere e la cosa può comunque aiutarlo dal punto di vista politico, quantomeno. Non avevo notato, tra l'altro, a SmackDown che Sasha Banks aveva la fascia per Anna Kimura, molto bella come cosa, anche quella. Come per esempio in New Day c'aveva invece per Shad Gaspard, quindi comunque sono stati ottimi ricordi anche quelli. Comunque, aperta e chiude a partita. Io credo che a livello economico si trovi in una buona situazione. Nel senso che comunque può mettere due compagnie una contro l'altra. Potete mettere... Ah, volete darmi 800.000? E lei darmi un mio offero 900.000, anche se non è vero, magari, di questa cosa. E, diciamo, può sfruttare la situazione, compice anche la sua posizione a NXT, il ruolo comunque importante che lui ha avuto a NXT in questi anni per cercare di strappare l'accordo economicamente più vantaggioso. Però, ripeto, non penso che lui vada nei W. Però non sappiamo quello che può accadere in questi mesi. Tornando a NXT, a bianetto di Drake Maverick che ha battuto Jay Katas e Kushida, Johnny Gargano ha battuto Adrenal Anis nel primo Johnny Gargano Invitational, non mi esprimo più sulla gimmick di Johnny Gargano, sapete come la penso. Diciamo che quantomeno abbiamo avuto poi un promo con Mia Yim, Kenny, Mia Yim e appunto Keith Lee, e si è continuata la costruzione del match la settimana prossima, e poi anche quello di TakeOver. Raquel Gonzalez contro Shotsi Blackheart, parlando di persone... Un brutto match secondo me, sai? No, discreto, discreto, discreto. Eh, discreto, comunque la Gonzalez non ha fatto una brutta uscita. No, è vero, è vero. Hai aiutato probabilmente anche da Shotsi Blackheart, che comunque non è assoluto. Sì, certo, Shotsi che si è presa un bump, che porca puttana Shotsi, che cazzo hai fatto? Descrivilo, descrivilo perché non me lo ricordo in questo momento. Eh, quando si è lanciata fuori dal ring di schiena? Ah, ok. Ah, ok, questo non me lo ricordo. Un attimo di vuoto. Poi, nell'unico... Si è lanciata fuori dal ring, eh? E non l'hanno presa? Ah, poi nell'unico match che ha aumentato gli ascolti durante la puntata di NXT, Charlotte Flair e Chelsea Green hanno battuto Yoshirai e Rhea Ripley, cosa che darà munizioni a Charlotte Flair per bullarsene probabilmente in qualche altro promo nelle prossime... Bello anche questo, bello anche questo. Sì, sì, più che buono. E direi che anche Chelsea Green ha fatto il suo, direi, in questo... In questo momento è stato un buonissimo match... Buonissimo match tra i quattro. Il negoziato tra Adam Cole e William Regal è andato bene? Dipende dai punti di vista, quantomeno. Secondo te per chi è andato meglio? Per Adam Cole o per William Regal? Per il Velvet in Dream, perché praticamente ci hanno detto che Velvet in Dream vince. Beh, sì, però non devi saperla questa cosa, praticamente. Sì, però... In teoria Velvet in Dream è obbligato a vincere, cioè comunque ha in chiave marca quantomeno la pressione nei confronti del Velvet in Dream è comunque abbastanza, diciamo, abbastanza alta, credo, no? Sì, non sono un grande fan del Velvet in Dream recente, quindi, beh, non è che ho molta voglia di vederlo campione, però... SmackDown ha fatto 2 milioni e 140 mila, più o meno, C'è un problema, però. C'è un problema, non in molte, però comunque in alcune parti degli Stati Uniti SmackDown non è andato in onda su Fox, perché hanno mandato in onda praticamente le tv locali, le affiliate praticamente di Fox hanno preferito mandare in onda i notiziari locali per le manifestazioni, diciamo, di protesta per il caso di George Floyd, quindi è probabile che il dato definitivo che noi avremo lunedì sia più basso, cioè che sia... Ah, ok. Cioè, il 2 milioni e 140 mila è probabilmente influenzato dal fatto che comunque le news locali in quella sera, nei mercati dove SmackDown non è andato in onda, hanno alzato, sotto di vista, probabilmente da più gente del normale, e hanno alzato probabilmente l'ascolto medio del network, perché comunque, diciamo, nell'overnight praticamente vanno a prendere tutte le affiliate senza distinzione, poi fanno il ricalco nei giorni successivi e praticamente non, diciamo, non, come posso dire. Poi fanno il ricalco definitivo, c'è sempre una differenza, tipo settimana scorsa il dato definitivo era praticamente uguale, però era tipo 5 mila aspettatori più basso alla fine. Il ricalco lo avremo lunedì, il dato di 2 milioni e 140 mila è possibile che sia anche più basso, però, per quanto riguarda la SmackDown, contando che diverse affiliate, soprattutto a Minneapolis, ad Atlanta, e anche a Los Angeles credo non sia andato in onda SmackDown, sulla affiliata locale di Fox, quella solita quantomeno, credo che comunque abbia un po' influito a livello di ascolti, credo che SmackDown sia un pochettino calato, ma non per colpe loro, cioè non per il prodotto, ma semplicemente perché stavano semplicemente mettendo a ferro fuoco le città, quindi diciamo che ci stanno le notizie, probabilmente anche a livello locale hanno preso il sopravvento, e comunque ci sta. Poi, Tommaso Ciampa ha distrutto un povero Giobert, ha fatto molto ridere. Ho ridito tantissimo con questo segmento. Il povero Leon Raffa che ha avuto l'applauso praticamente del... Prima della sua morte, diciamo, vai. Annunciano il coso, si becca l'applauso, poi c'è il... c'è cosa? C'è Ranallo che dice eh, lui è quello che settimana scorsa ha affrontato Carry On Cross. 30 secondi, neanche 30 secondi dopo parte la team di Ciampa, e io mi metto a ridere di gusto, perché penso, oh mio Dio, è morto settimana scorsa. sta settimana non gli finirà molto meglio. No, infatti, non gli finirà assolutamente meglio. E infatti è andato esattamente così, perché comunque il match è stato rapidissimo, con la vitra di Tommaso Ciampa. Promo di Cross, poi dal, diciamo, dal Tron, alla fine. Ciò hai, sinceramente, ciò hai. No, vediamo cosa esce, vediamo cosa esce. Sai cosa? Sulla carta sembra un me scontato, perché comunque penso che vinca Cross, però vediamo cosa esce a livello di, diciamo, a livello di risultato, a livello di, no tanto a livello di risultato, scusa, a livello di match. A livello di match voglio vedere cosa, come va a finire tutto questo. Penso che sarà comunque un match più che buono, vediamo come se lo giocano anche, naturalmente. E poi, come detto, del main event, con la direzione arbitrale, direzione arbitrale da parte di Crotteng, come detto che Riddle non ha, diciamo, non ha ceduto, perché praticamente Engle gli ha alzato il braccio tre volte, il braccio è caduto a terra, e poi Engle ha dichiarato, ha dato chiuso il match, quindi tecnicamente non ha ceduto, però, essendo comunque un match, un match stile MMA, ci sta comunque una cosa di questo tipo. Nell'MMA non alzi il braccio, va detto. Però diciamo che ci sta comunque un finale di questo tipo. Comunque, anche nei match di wrestling normale, quando tu puoi svenire, cioè, con la sottomissione, te la contano come se fosse stato sottomesso. Sì, sì, assolutamente. Pienamente d'accordo. Quindi, mercoledì a NXT, avremo, come detto, la finale del torneo per assegnare titolo Curious. Tra l'altro, ripeto, bisogna vedere se sarà effettivamente Inter in Cruiserweight Championship, o Cruiserweight Championship, punto, tra Drake Maverick e il hero del fantasma, Mia Yim contro Candice Lorraine, un match uno contro uno, e poi Prime Target, che è praticamente una sorta di loro countdown per gli show, dedicato praticamente ai due match titolati di TakeOver, cioè il match tra Wavet in Dream e Adam Cole, e il match a tre donne, tra Rhea Ripley, Charlotte Flair e Yoshirai, che dovrebbe essere un ottimo match, speriamo, speriamo bene, dovremmo divertirci comunque. TakeOver, ricordiamo la card, in programma della notte, tra domenica, domenica sette, e, domenica sette, sì, domenica sette, che scusa, è lunedì, otto giugno alle, alle, cos'è, alle sette? O alle, cioè alle sette ora, ora americana, quindi luna in Italia, o è alle sette? Che non le sti alle sette, non vorrei dire una fesseria, perché tutti i show, da WB iniziano a quell'orario ormai, Tommaso Ciampa contro Carrion Cross, in un match uno contro uno, Charlotte Flair contro Dan Ripley, contro Yoshirai, in un triple threat match, per il titolo femminile di NXT, ho visto un video questa settimana, che ne riassume la loro rivalità, match che personalmente, non è che mi attiri moltissimo, però vediamo cosa ne esce, Adam Cole contro Vavet in Dream, in un match dove, se il Vavet in Dream perderà, non avrà più, diciamo, possibilità al titolo di NXT, finché Adam Cole sarà campione, e infine, Keith Lee contro Johnny Gargano, In realtà se ci pensi, Cole ha già vinto un match del genere, che era quello con Gargano, credo, con Gargano, esatto, sì, con Gargano, Il terzo con Gargano era, finché Cole è campione, Gargano non può più andare per il titolo di NXT. E infine, Keith Lee contro Johnny Gargano, per il titolo Nord American di NXT, titolo Nord Americano, qui mi aspetto un cambio di titolo, non so te, anch'io, anch'io, tra Gargano che batterà lì, comunque ne parleremo poi, la prossima settimana, facendo la preview, praticamente, di TakeOver, perché saremo poi, a poche ore dalla disputa dell'evento. Passiamo a Dynamite, di questa settimana, è stata una puntata, lo fai da solo, perché io non l'ho visto, è stata una puntata, prevalentemente, di promo, quella di, quella di questa settimana, alla fin fine, per quanto riguarda, per quanto riguarda, non l'abbiamo detto, sono, ha vinto i W, ma sono, sono saliti, entrambi gli issue, non ricordo il dato preciso, però era, 800 e qualcosa, Dynamite, 120 e qualcosa, Dynamite, e 700 e qualcosa, aspetta, che vado, che vado, che vado a prenderlo, aspetta, un secondino, che vado a prendere, il, il, il tutto, eh, cos'era, 20, la data era, 20, cos'era, 20, 28, praticamente, 28, 28, 28, ecco qua, allora, il dato, il dato totale era, il dato totale è 1.558, che è il più alto da inizio marzo, per quanto riguarda, i due show, 827.000, per quanto riguarda, per quanto riguarda, Dynamite su TNT, 731 invece, per quanto riguarda NXT, sono saliti entrambi, di parecchio, bisogna vedere i motivi, per cui sono, sono saliti, le news, sono, erano più basse del solito, quindi probabilmente, cioè, c'era, diciamo, la speranza può essere che, finendo la fase di emergenza, del Covid, dicendo che, però, la sensazione, diciamo, da gran parte dell'opinione pubblica americana, è che comunque l'emergenza sia finita, per quanto riguarda il Covid-19, negli Stati Uniti, la gente guarda meno le news, praticamente, quindi, guardando meno le news, un po' di quelli che, mercoledì 6, guardavano le news, magari, si rispostano e vanno a finire sul wrestling, AEW o NXT, è assolutamente differente, vedremo settimana prossima, naturalmente, come andrà a finire, nelle prossime settimane, a meno finché non tornerà, non tornerà il pubblico. Dynamite, dicevo, di questa settimana, ovviamente, la notizia principale, per quanto riguarda Dynamite, di questa settimana, è l'angle con Mike Tyson, con l'angle con Mike Tyson, Chris Jericho, in un'intervista, ha detto che, devono ancora, mettersi d'accordo, al 100%, mi sembra strano, onestamente, cioè, al limite, dovranno mettersi d'accordo, su cosa fare di preciso, nel senso, mi sembra chiaro, che arriveremo a Jericho contro Tyson, in qualche modo, bisogna vedere in che modo, bisogna vedere se è un match di wrestling, se è un match di pugilazione, lato, tra virgolette, stile Mr. T contro Roddy Piper, Restamina 2, che non è un grande esempio, la portare avanti, perché non può essere un match, però, però diciamo, cioè, l'attrattiva è mettere Mike Tyson sul ring, bisogna vedere in che modo, naturalmente, perché comunque, se metti Mike Tyson sul ring, qualche paper vi lo vendi, quello è automatico, va, va, e, e matematico, che comunque una cosa del genere, va da succedere, bisogna vedere come verrà portata avanti, questa cosa, nel prossimo settimane, e cosa poi si arriva, credo che sia una cosa più per, non credo che sia una cosa per Fyter Fest, onestamente, a parte del fatto che non ho ancora una data Fyter Fest, però, credo che sia più, no, vabbè, no, mi stavo confondendo con Fyter Fest, perché stavo per dire, a Fyter Fest fanno Brian Cage contro, Moxley, contro Mox, però, no, però per esempio, a Dynamite, a Dynamite non è andato una data, cioè, hanno detto, diciamo, più avanti durante l'estate, a Fyter Fest, praticamente, ci sarà Moxley contro, contro Brian Cage, per il titolo, titolo di W, vediamo come, vediamo come va a finire, ovviamente, questa, questa situazione, la, la sensazione che ho, parlando di Fyter Fest, a livello di, a livello di dove andrà in onda, e che loro lo manderanno in onda su HBO Max, ci stanno puntando, cioè, Warner Media sta spingendo, tantissimo su questo HBO Max, perché comunque, diciamo, è un servizio nuovo, e comunque voglio, la loro piattaforma verde top, esatto, la loro piattaforma verde top, tra l'altro c'è tanta roba su HBO Max, a livello di, a livello di contenuti, al di là di, vabbè a dire, dico una cazzata, al di là, al di là delle serie di HBO, che comunque sono, comunque molto importanti, faccio un esempio, loro hanno preso anche diritti, per South Park, cioè, quando, quando South Park ripartirà, South Park finirà in esclusiva, su HBO Max, a livello di, a livello di, a livello di loro top, c'è tutto France, per esempio, su, su HBO Max, quindi comunque c'è, ci sono tanti, tanti contenuti, su questa serie, più film, e robe, e robe varie, la, la sensazione che ho, è che comunque, il fatto è che comunque, l'abbiano anche citato, due volte su, a Dynamite, praticamente, abbiamo fatto praticamente, due vere e proprie marchette, durante, durante lo show, perché hanno messo il paletto, con il logo di HBO Max, il logo di HBO Max, era, nell'epron, a Bordo Ring, hanno fatto fare due volte, il, diciamo, il promo a Tony Schiavoni, dicendo, è partito oggi, abbonatevi, HBO Max, eccetera, eccetera, mi fa pensare, comunque, qualcosa più avanti, con le IW, ci faranno, del tipo, magari Fighter Fest, potrebbe essere, trasmesso in diretta, da HBO Max, sulla, sulla piattaforma streaming, non penso che avremo, cioè, non penso che i pay per view, verranno messi su HBO Max, in futuro, magari a livello di library, però non credo, perché comunque, loro, ecco, tra l'altro, parlando di pay per view, apriamo e chiudiamo parentesi, Double or Nothing, pare sia andato molto bene, molto, molto meglio l'è previsto, perché contando anche la carta, che comunque, anche noi abbiamo giudicato, diciamo, non, non, sulla carta, meno, meno attraente, meno interessante, rispetto agli altri eventi, in realtà, pare che sia, sia, addirittura, diciamo, in traiettoria, per diventare il pay per view, più acquistato, della storia dell'IW, che è un risultato, contando che siamo in periodo di pandemia, e che ci sono 40 milioni di disoccupati, negli Stati Uniti, un risultato impressionante, secondo me, per quanto riguarda, per quanto riguarda la compagnia, parliamo di, di un dato, che comunque dovrebbe assestarsi, sopra i 100 mila acquisti, cosa che, onestamente, nessuno avrebbe previsto, alla vigilia, quindi, complimenti all'IW, per il risultato, dovremo poi, cioè, l'IW ha, diciamo, un grande vantaggio, in questo momento, al di là del fatto, che il pay per view, comunque, alla fine, in un modo o nell'altro, comunque, cioè, l'IW comunque, in questo momento, quantomeno, a livello di show, è sempre valsa la spesa, cioè, comunque, tu paghi 50, è vero che costano 50 dollari, per più dell'IW, negli Stati Uniti, però, comunque, su 5 show, ne hai avuti 5, comunque, di ottimo livello, alla fine, quindi, comunque, la gente, probabilmente, o comunque, gli appassionati più al course, sanno comunque che, ok, spendono 50 dollari, però, comunque, hanno uno spettacolo di ottimo livello, quindi, probabilmente, quello, l'invoglia anche più volentieri, ad acquistare, ad acquistare un pay per view, però, è anche vero che, comunque, parliamo di una compagnia, che ha 800, in questo momento, 820 mila, diciamo, ascoltatori, questa settimana, 830, più, contando quelli che lo guardano in registrata, con i videoregistratori digitali, arriviamo magari intorno al milione, parliamo comunque di una compagnia, che converte dal 10 al 15% del proprio pubblico, a spendere 50 dollari ogni tre mesi, per un evento, che è una buonissima percentuale, assolutamente un'ottima percentuale, parliamo, parliamo di 3 milioni di dollari a show, praticamente, più o meno, contando la fetta, che si prendono i provider, e la fetta che si prende, che si prende, l'AW, bisogna vedere poi quanti, anche, quanti vengono comprati su, su, licea report, dove comunque praticamente tutto il guadagno, andrà, va all'AW, quanti se li prendono attraverso i provider satellitari, dove comunque va una parte, cioè, è comunque un discorso, non semplice, però comunque loro, dai pay per view, ci fanno comunque, dei bei soldini, il fatto che comunque, in questo periodo, loro abbiano, pari, raggiunto questo risultato, con Double or Nothing, è, cosa ottima, per quanto riguarda l'AW, la stessa UFC, io non ho aspettato che la UFC, con UFC 249, facesse, diciamo, facesse un ottimo risultato, invece in realtà è andata molto meglio alle previste, pare abbia fatto 700 mila acquisti, o intorno a 700 mila acquisti, UFC 249, pensavo ne facesse molti, molti meno, onestamente, quindi vuol dire, c'è comunque, diciamo, una lezione, in questo periodo, relativamente a, diciamo, alla carenza di sport, che, possiamo ricollegare al discorso di Mike Tyson, nel senso che, in questo momento, probabilmente, cioè, questo momento, probabilmente è il momento adatto, per provare una cosa del genere con Mike Tyson, perché è il momento ideale, perché non c'è niente, perché non c'è niente, quindi comunque, i talk show, i vari notiziari, comunque i programmi, che parlano di sport, sulle tv americane, hanno bisogno di argomenti, e, mettere Mike Tyson, che è comunque un personaggio controverso, che è comunque un personaggio, che comunque attira sempre, il suo seguito sul ring, è vero, per, tra virgolette, una buffonata come il wrestling, però, lo mette sul ring, ma comunque un po' di seguito, un po' di seguito lo attira, tant'è che faccio un esempio, giovedì mattina, e per gran parte della giornata, su ESPN, sul sito di ESPN, che è la più importante televisione sportiva al mondo, su ESPN.com, la notizia di Mike Tyson, il filmato di Mike Tyson, a Dynamite, con Chris Jericho, l'entourage, con Henry Segudo, con quel malato di mente, che si è messo, che si è messo anche il face paint sulla faccia, tal Gucci, che non si sa dove l'abbiano tirato fuori, Vitor Belfort, Rush Adevast e compagnia cantante, è stata la seconda notizia, su ESPN.com, bisogna vedere, ripeto, non sappiamo in questo momento, a quanto, cioè, quanto, questa esposizione, perché comunque se ne è parlato in tutto il mondo, se ne è parlato sul Telegraph, se ne è parlato sul Sun, se ne è parlato su Sport, che è il quotidiano, quotidiano sportivo principale portoghese, se ne è parlato su Sport Medias, se ne è parlato di questa cosa, se ne è parlato, in Italia, credo anche, dove, forse anche la Gazzetta, forse anche la Gazzetta, che ne è parlato di questa cosa, sul Sun. Anche la Gazzetta spesso fa ormai, no, per carità, sì, è vero, 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 è il periodo perfetto, cioè, comunque, è il periodo perfetto, perché comunque, gli sport in questo momento in America, sono tutti fermi, quindi comunque c'è bisogno di contenuti, il baseball, per esempio, non si sa quando ripartirà, faccio, perché, facciamo un piccolo apparente sui sport americani, l'NBA, se tutto va bene, ripartirà il 31 luglio, ho visto addirittura, cioè, la notizia di, la notizia di oggi, cioè, comunque pare che ci sia una bozza, che pare, che ipotizza una ripresa della stagione per luglio, quantomeno, il baseball pare che siamo ancora in alto mare, perché i player, cioè i giocatori, praticamente vogliono giocare 100 partite, alla tariffa, diciamo, per gara, che praticamente comprende tutto, cioè, un discorso è questo, io prendo 10 milioni, però faccio 160 partite all'anno, ne faccio 100, prendo quei 10 milioni, ovviamente, cioè, ripartiti su 100 partite, cioè, mi prendi quei 10 milioni, praticamente, togli la parte delle 60 partite, e mi dà la stessa cifra, togli, cos'è, 60 è, un quinto, praticamente, non, 60 è un terzo, mi togli 3 milioni di dollari, praticamente, e invece di 10 milioni, ne prendo 7, però ti faccio 100 partite, non 160, l'idea pare essere quella, invece, pare che le associazioni, i proprietari, pare che invece, oltre a quello, vogliono anche un'ultra riduzione, nello stipendio, cosa che i giocatori, non hanno preso molto bene, come potete immaginare, l'ok, pare abbia l'ok, per ripartire, con un mega playoff, con gironi, fase finale a 24 squadre, quindi almeno quello dovrebbe ripartire anche tutto sommato presto, il futbol americano parte a settembre, quindi comunque non ci sono problemi, però al momento si attende comunque indicazione per quanto riguarda la stagione, cioè comunque in questo momento in America non c'è veramente niente, a livello di sport, prendersi un Mike Tyson potrebbe, non ho detto che lo faccia, però potrebbe comunque aiutarvi, quantomeno a far pallare di sé, lo sapremo settimana prossima, la settimana prossima l'ascolto rimarrà su questo livello, magari aumenterà un pochettino, vuol dire che comunque questo tipo di lavoro, questo tipo di idea è servito a qualcosa, vedremo cosa succederà la settimana prossima, comunque l'engolo in sé, cioè se vai a prenderti l'engolo in sé, non è neanche eseguito nel migliore dei modi, la parte precedente, l'arrivo di Tyson è molto divertente, perché praticamente è stato il main event della puntata, l'Inner Circle ha praticamente lanciato un Pepperelli, cioè comunque una sorta di evento, una sorta di festa praticamente per, diciamo per, ritirarsi un po' su di morale praticamente dopo, dopo la sconfitta nello stadio stampito di sabato a Double or Nothing, avevano, tra l'altro la cosa che ha fatto ridere, avevano preparato delle magliette proprio per celebrare la vittoria, un po' come le magliette del triplete, di cui, che voi bastardi me ne avete regalati due, regalati due per l'altro, le magliette del triplete, no non abbiamo fatto due triplete, stronzo, comunque, eh? Sì, hai capito benissimo, comunque dicevo, io ricordo due triplete, sì, anzi, neanche due triplete, uno era anche il vero triplete, l'unico vero inimitabile, stronzi, comunque dicevo, giustamente, le magliette che i team di football, di basket, eccetera, fanno, da mettere poi subito in vendita, in caso di vittoria, di campionati, di Super Bowl, magliette che poi ti rimangono sul gruppone, praticamente, se tu perdi, in questo caso, l'idea, cioè, l'inner circle, praticamente, aveva fatto preparare, compice, un loro amico, che gli aveva fatto un prezzo di favore, un intero camion di magliette, per celebrare la vittoria, diciamo, dello stadio stampito, magliette che, tra l'altro, sono in vendita, in questo momento, su progressintis.com, a metà prezzo, logicamente, perché non le vendono al prezzo normale, e sono, tra l'altro, le magliette più vendute della settimana, comunque, il rally parte con Gerico, che tira queste magliette al, diciamo, al pubblico, dicendo, abbiamo un regalo per voi, le abbiamo fatte apposta, solo per voi, e gli tira le magliette, con il celebrare la vittoria, dallo stadio stampito, magliette che, tra l'altro, in un momento, che spero vivamente, non fosse preparato, magliette che poi, gli vengono rispedite, praticamente, dal, direttamente dal pubblico, gli vengono, un po' come, la vedo molto dura, un po' come, beh, vabbè, però è stata, è stata sufficientemente, è stata fatta sufficientemente bene, da essere credibile, comunque, come, come scena, ha fatto, ha fatto molto ridere, se la guardi, fa molto ridere, poi, vabbè, c'è stato il momento dei regali, praticamente, Sammy Guevara ha preso, letteralmente, dei trofei di partecipazione, tant'è che quello di Gerico, c'è scritto, migliore, nelle battute sui papà, praticamente, Sammy Guevara ha poi preso, delle, delle timber, dando praticamente, per semiacra, ma di imitazione, cioè quelle che costano, 10 dollari, dai, dai cinesi, praticamente, per, il povero, il povero Santana, che è completamente sordo, dopo, Santana Ortiz, non ricordo chi, chi è dei due, Santana è quello con i capelli, con i capelli folti, no, Ortiz è l'altro, non ricordo chi dei due, non mi ricordo mai, dei due, chi è chi, comunque, sostanzialmente, uno dei due è stato tramortito, dal suono della campana, durante, durante lo stesso stampito, e non sente più niente, e quindi, il regalo, praticamente, Sammy Guevara gli dà, delle cuffie, delle cuffie antirumore, da indossare, e Santana, così può tornare, a sentire, mentre per Gerico, per Gerico, ci sarebbe, del, diciamo, un tagliere di formaggi, e salumi, e del vino, che però, scopriamo, essere già stato, spazzolato e bevuto, da, probabilmente, da Mike Tyson, che poi arriva, arriva con il suo entourage, Gerico, diciamo che si è da prendere, perché Gerico, l'intera storyline, l'intera storia, è che praticamente, lui si è legato al dito, lui Gerico, si è legato al dito, quello che è successo a Raw, nel 2010, cioè, quando Tyson fu, credo, guest host, nel 2010, a Raw, fece, tag team partner, di Gerico, e lo tradì, praticamente, durante il match, era un match contro la DX, se ricordo bene, e praticamente, lo tradì durante il match, e lo tramortì, con un, diciamo, con un, con un, con un cazzo, e anche, legato della DX, primo, secondo, secondo, dovevo immaginare, che Tyson, comunque, l'avrebbe tradito, comunque, fatto sta, che Gerico, si è portato dietro, praticamente, questa, si porta dietro, praticamente, questa, questa, cova vendetta, sostanzialmente, tra dieci anni, Tyson, che ha, Tyson che diventa, per un attimo, l'ex lugre, perché ha problemi, con la maglietta, vatti cercare, i momenti qui, sì sì, no l'ho visto, Tyson si toglie, la maglietta, tra l'altro, non è neanche la prima volta, che Tyson ha problemi, ha problemi, diciamo, e beh, anche quando si levò, quella della, quando, anche a Raw, quando si levò, quella della DX, infatti, esatto, esattamente quello, il riferimento, cioè, ha problemi con le magliette, credo che debba prendere lezioni, diciamo, da Mike Tyson, cioè, da Hogan, da Hogan, esatto, fa i buchi, praticamente, nella maglietta, così almeno, così almeno, praticamente, si, diciamo, si, si, si rompe più facilmente, comunque, vabbè, alla fine, scatta la rissa, la rissa è anche furibonda, nel senso che comunque, c'è tanta gente coinvolta, perché proprio è, è un'aperta citazione, di quello che accadde con, con Austin, con Austin e Vince McMahon, nel 1998, che è esattamente quello, era esattamente quello l'obiettivo, la parte dell'AiW, vediamo, ripeto, come va a finire, come, come Angol in sé, ripeto, l'Angol in sé, la parte di Tyson, è discreta, onestamente, non è, non è neanche poi granché, onestamente, a livello di Angol, però l'importante è che faccio a parlare di sé, poi vediamo come va avanti questa cosa in settimana, vediamo a cosa, cosa si arriva praticamente, se, ripeto, si arriverà sicuramente a un Jerry contro Tyson, presumo all out, però, vediamo come ci si arriva, vediamo che tipo di match, ovviamente, verrà fatto tra, tra questi due. Il resto della puntata è stato, ripeto, ci sono stati tanti promo, perché comunque, è stata una puntata di, post pay per view, che serve, servita più che altro, a accettare le basi, per quello che vedremo, nelle prossime settimane, a Dynamite, e, probabilmente, anche a Fighter Fest, anche se ovviamente, è solo la prima settimana. La Battle Royale, per decretare il number one contender, al titolo, al titolo televisivo, al titolo TNT, scusami, è il spontaneo che chiamano titolo televisivo, di Cody. È il titolo televisivo, praticamente. Ma infatti, ecco, l'accommodazione è arrivata Gianluca, adesso appena, appena Gianluca entra in, in stanza, ne parliamo, ne parliamo direttamente con lui. Esattamente il titolo televisivo, nel senso che comunque, anche, cioè, Cody ha detto, ha fatto un promo in ring, dove ha detto che lui, praticamente, difenderà il titolo TNT, ogni settimana, che tra l'altro, è esattamente quello che veniva fatto, col titolo televisivo, ai tempi dell'NWA. Quindi, ogni settimana, praticamente, lui, essendo, tra virgolette, il campione televisivo, non a caso, il titolo, praticamente, ha anche il nome del, il nome del network, che è TNT, che ospita praticamente l'AW, l'idea è probabilmente quella, cioè, diventare la cintura, non la cintura principale, ma comunque la cintura, dello show televisivo, cioè, la cintura di Dynamite, nelle settimane, praticamente, nelle prossime settimane, quantomeno. La prima difesa titolata, sarà la prossima settimana, perché il, il vincitore della Battle Royale, affronterà Colt, il vincitore della Battle Royale, pensavo fosse MJF, invece, in realtà, MJF, probabilmente, se lo vogliono tenere, per, diciamo, più avanti, per una rivalta, un pochettino più importante, il vincitore è stato Jungle Boy, Jungle Boy, che ricordiamo, era andato, qualche mese fa, non con Cody, ma, era andato, alla pari, praticamente, con Chris Diego, che era allora campione, dopo dieci minuti, cioè lui comunque, avrà resistito dieci minuti, quindi settimana prossima, Cody affronterà Jungle Boy, a Dynamite, in un match, che tra l'altro, mi aspetto, molto molto divertente, specialmente dopo, il match che, il match che Jungle Boy, ha fatto, in quel di, in quel di Double Ornaffing, contro lo stesso MJF, MJF, che tra l'altro, si è, MJF che tra l'altro, si è lamentato, in un promo backstage, del fatto che lui, nonostante fosse, ha diventato numero uno, nel ranking, dell'AW, ed è comunque vero, lui in classifica, il momento è primo, nel ranking, perché non ha perso, non ha perso ancora, no, Radha ha perso un match, nel 2020, che guarda a caso, quello con, no, che tu scusi, hai detto una cazzata, no, lui è imbattuto da un anno, cioè lui non è stato, non è stato ancora battuto, da un anno praticamente, cioè ha perso, ha perso dei match, di coppie, dei match, più persone, ma non è stato effettivamente, mai schienato, in un anno, ed è, ed ha il ranking migliore, nel, diciamo, nel, nel, nel 2020, insieme a quello di Cody, che però essendo campione, in questo momento è fuori, è fuori dal ranking, e anche a quello di Mox, perché anche Mox, è quello di Mox, esatto, Mox è un altro che non ha, che non ha perso, il ranking a mercoledì, tenendo conto che dobbiamo ancora raggiungere, poi tutti i match di Dynament, verranno rivelati, verranno rivelati praticamente, nella, nella, nella giornata di mercoledì prossimo, abbiamo Mox in testa, Mox è 12 a 0, nel 2020, Cody è 10 a 1, i due campioni sono fuori, dal ranking maschile, il number one contender, in questo momento, sarebbe MJF, che ha 6 vittorie, 0 sconfitte, e in totale, 11 vittorie, e 1 solo sconfitta, nel, da quando è partita la EW, Lance Archer è secondo, con 5 a 1, Brody Lee è terzo, con 5 a 1, prima sconfitta, arrivata da Blorn Nothing, sia per Lance Archer, che Brody Lee, quarto Kenny Omega, 4 a 0, nel 2020, e quinto Darby Allin, che è 6 a 4, nel, nel 2020, potenzialmente, tenendo conto che, il titolo, Mox lo difenderà, contro Brian Cage, direttamente, a Fighter Fest, se continua, la buona situazione, da parte di MJF, Lance Archer, e Brody Lee, potrebbe essere, diciamo, uno di questi tre, i prossimi avversari, uno di i prossimi avversari, di John Moxley, o magari Kenny Omega, quando perderà il titolo, però in questo momento, non mi sembra che ci sia, molte intenzioni, di fargli perdere, la cintura, per quanto riguarda le donne, invece, in questo momento, nel ranking, nel ranking del titolo femminile, abbiamo Iker Ushida, che è in testa, con, che è campionese, quindi fuori dal ranking, al primo posto, abbiamo Nyla Rose, con cinque vittorie, due sconfitte, Crystal Tlander, e Britt Baker, che però infortunata, ritornerà all out, quattro vittorie, quattro sconfitte, Yuka Sakazaki, una vittoria, una sconfitta, nel 2020, e il quinto posto, Penelope Ford, tre vittorie, tre sconfitte, qui siamo messi, leggermente peggio, a meno che non si vada, verso un rematch, tra Iker Ushida, e Nyla Rose, che potrebbe, anche essere possibile, nei tech team, invece, abbiamo, Omega Page, campioni, che non hanno ancora perso, nel 2020, i numeri uno, in classifica, sono, Trent e Chuck Taylor, ovvero i best friends, che hanno tra l'altro, vinto anche il match, a Dynamite, per proprio diventare, i number one container, no, che scusa, non ha, ho detto una cazzata, non ha, a Dynamite, a Double or Nothing, hanno vinto il match, contro i private party, per diventare, number one, contender, cioè, contender, no, in realtà, mi sono confuso io, abbiamo due number one container, in questo momento, perché abbiamo, i best friends, che hanno battuto i private party, e avranno una shot, diciamo, nel futuro, penso a All Out, Jimmy Evok, e Kim Sabin, invece, hanno battuto Dynamite, Scorpio Sky, Frankie, Kaserian, e loro avranno la prossima title shot, che è a Fyter Fest, credo che, i best friends avranno All Out, dovessi, dovessi dire, però vediamo come, come andrà a finire, Jimmy Evok, e Kim Sabin, hanno battuto, Scorpio Sky, Frankie, Kaserian, a Dynamite, saranno i prossimi, ad avere una title shot, credo addirittura, non mi ricordo se mercoledì prossimo, o, o a Fyter Fest, adesso vado un attimo a cercare, vado un attimo a cercare, diciamo, il, l'accard di Fyter Fest, che comunque, è, diciamo, è anche, è anche strano da dire, perché in questo momento, non abbiamo neanche, una data in questo momento, per l'evento, no, infatti, Kenio McGann, non peggio contro i best friends, direttamente, quindi, i best friends avranno Fyter Fest, e, Evok, e l'altro, credo che l'avranno, All Out? No, mercoledì prossimo, mi sembra, magari mercoledì prossimo, adesso vado un attimo a rivedere, perché non mi ricordo, in questo momento, cosa, anche perché, ora di All Out, cioè, allora, settimana prossima, abbiamo due match titolati, a Dynamite, abbiamo Cody contro Django Boy, per il titolo TNT, e Omega Page contro Evok e Serian, per i titoli di coppia, e poi ci sarà anche, immagino anche, i Revival contro, gli ex Revival, gli FTR contro, Scorpio Sky e Caserian, visto che si sono insultati, su Twitter, ho visto, non lo so, non lo so se è annunciato, vado un attimo a vedere, magari non è annunciato, però potrebbe essere, contando che ho visto, che si sono, gli FTR, gli FTR, a quanto sembra, da indiscrezioni, non dovrebbero lottare, stima la prossima, quindi, perché tra l'altro, poi gli FTR, hanno subito attaccato, i Butcher and the Blade, più probabilmente, per toglierli di mezzo, diciamo, toglierli di mezzo, dai Bugs, probabilmente, ma, domanda, visto che non lo so, alla fine, la loro schedule, com'è alla fine, per registrare? Ogni due settimane, in diretta, ogni due settimane, quindi identica la WWE? Praticamente sì, perché la puntata di mercoledì, è registrata, l'hanno registrata giovedì, cioè l'hanno registrata, il giorno dopo, rispetto alla diretta, loro vanno in diretta, vanno in diretta, più o meno identica la WWE, la cosa? Sì, praticamente è la stessa, ovviamente hanno meno cose da registrare, però, di base, loro ogni due settimane, una volta di due settimane, ma sono in diretta, praticamente, questa è l'idea, almeno per il momento è così, hanno registrato la puntata di mercoledì prossimo, nella giornata di giovedì, poi penso che il 10, praticamente, ritorneranno in diretta, registrano due puntate, e così via. Allora, la settimana prossima abbiamo, abbiamo, per Dynamite, poi torniamo alla puntata di questa settimana, Nylon Rose contro Big Swole, Brian Cage, che farà probabilmente un altro squash, sarà comunque di nuovo in azione, gli FTR fanno un'intervista con Tony Schiavoni, Chris Jericho affronta Cole Cabana, Kenny Omega e Hangman Page, contro Kim Sabine e Jimmy Evok, per i titoli di coppia EW, e Cody contro Jungle Boy, per i titoli, per il titolo praticamente TNT, questa è la card praticamente di mercoledì, a Dynamite, che aveva già fatto qualcosa in più, però meno male, in questo momento hanno annunciato sei segmenti, per la puntata di mercoledì. C'era un'altra cosa che volevo dire, da Dynamite, ah, mi ha fatto molto ridere che, che ormai la prassi, per quanto riguarda la, per quanto riguarda l'EW, con le persone che non possiedono, praticamente l'utilizzo del proprio cognome, sia annunciata semplicemente col nome, perché in EW perdi il nome, ma non il cognome praticamente, in EW perdi direttamente il cognome, Cody Ross è diventato Cody, e adesso Billy Gunn è diventato Billy, semplicemente, che mi fa molto ridere praticamente come nome, Cody ancora, è diventato un armadietto dell'IKEA, Cody già fa ridere, Billy fa ancora più ridere, come cosa, mentre il figlio invece è Austin Gunn, quindi il figlio, il figlio si chiama effettivamente, effettivamente col cognome, eh, tornando a Dynamite, tornando alla puntata di Dynamite di questa settimana, eh, promo di Brian Cage, che per realtà gliel'ha fatto, gliel'ha fatto tutto, gliel'ha fatto tutto Taz, praticamente, eh, vediamo quanto dura Ted, come, come manager, come manager di Brian Cage, dati trascorsi, quantomeno, però è una competenza che mi piace, francamente, Cage, eh, Cage è praticamente Ted, che gli fa, che gli fa i promo, perché Ted comunque i promo di sapare, quindi dovrebbe, dovrebbe essere una cosa più che, più che buona, eh, Ian Bucks e Matardi hanno battuto, private party, e Joy Gianella, nell'opener della puntata, buon opener, è caotico come, come ben o male succede spesso, ai match dei, dei Bucks, eh, alla fine praticamente, i Bucks ottengono la vittoria, vengono però attaccati da, eh, da Butcher Blade, che erano tra il pubblico, e che sono stati travolti, loro malgrado, da uno dei Bucks, durante una fase conciliata del match, eh, praticamente Butcher Blade aspettano che, eh, perché uno dei private party praticamente si è fatto male, eh, durante il match, work out ovviamente l'infortunio, però, Matardi ha aiutato praticamente l'altro dei private party a portare il, il suo tech team partner nel backstage, la cosa ha consentito a Butcher Blade di arrivare sul ring, hanno attaccato gli Ian Bucks, sono arrivati gli FTR, che si chiamano FTR, in questo momento non hanno dato spiegazioni di cosa vuol dire, praticamente la sigla, eh, FTR, anche perché Revolt continuano ad avere season desist, cioè quella cosa lì finita. Sì, allora, la risposta è questo, Factor Revival non può, non può essere, eh, Revolt non può essere perché ci sono due praticamente, cioè il season desiste a parte di quell'altro tech team nelle indie, che si chiamava già Revolt, ehm, se vai a vedere la, la maglietta che loro hanno messo su Progressive Tease, eh, vuol dire, cioè la, la sigla che loro praticamente hanno, eh, hanno dato nel loro, nella loro maglietta, nel loro store su Progressive Tease, è una cosa del tipo, eh, oddio, un attimo di vuoto in questo momento, vado, vado a prenderla, vado a prenderla perché in questo momento non, eh, diciamo, non, eh, non me la, non me la ricordo, eh, è una cosa tipo, eh, ah, ecco, Forget the Rest, ecco, o Fuck the Rest, diciamo, in questo, eh, in questo caso, la maglietta proprio scritto, proprio scritto, fuck the rest, censurato, fuck ovviamente, però, fuck the rest, però se vai, anche sul, diciamo, sul, sul loro account, fa molto, fa molto, fa molto quelle, quelle vecchie frasi da bimbe minchia, I'm the best, fuck the rest, qualcosa del genere effettivamente, se vai a prendere, se vai a prendere, tra l'altro, su Twitter, loro praticamente, loro, eh, loro scrivono praticamente, fuck the rest, però ci sono altre, altre due sigle, praticamente, che sono, aspetta che la, che la becco, praticamente, eh, era tipo, era forget the rest, era, c'era, c'era, diciamo, c'era, c'era un po', c'era un po' di tutto, praticamente, non c'è una vera e propria sigla, quanto meno, per quanto riguarda, per quanto riguarda, diciamo, i due. Era come, era come il gruppo, era come la, il vecchio nome che aveva il mio gruppo musicale, dove avevamo una sigla, e ogni volta la cambiavamo, cambiavamo il sigla. Ok, benissimo, buono, non sapersi. Comunque, no, debutto, sembra che vanno contro i Bucks, poi alla fine attaccano, Butcher e Blade, faccia a faccia con gli Young Bucks, credo che la cosa sia solo rinviata, praticamente, tra i due, tra i due tech team, inizialmente, magari, magari, diciamo, avranno, diciamo, un patto di non belligeranza, però poi, comunque, i due team, probabilmente, verranno, verranno poi alle mani, comunque, è inevitabile che ci sia una rivalità tra, tra i Bucks e, e il turno arrivano, contando che, contando che, è una roba che vanno a chiamare, da almeno, due o tre anni, esatto, quant'è che vanno avanti sui social, quindi, e credo che comunque il pubblico ai W lo voglia anche vedere questa cosa, quindi, ci arriverà sicuramente, sicuramente a quello. Penso se fanno un brutto match. Come, scusa? Penso se fanno un brutto match. Beh, Mattardi e Jeff Hardy hanno fatti diversi brutti match in carriera, cosa che sembrava effettivamente impossibile. Brindbecker si è presentata a bordo di una sedia a rotelle, sospinta tra l'altro dalla povera Rebel, che lei ha ribattezzato ormai Riba, e praticamente la paranoia in Brindbecker è arrivata a tal punto che, lei è ufficialmente Chris Jericho, teoria cospiratoria in WCW nel 97-98, se non ricordo quando era l'anno, però comunque lei praticamente ha dato la colpa. 98. 98 era il Cospiracy Feeding, 98. Cospiracy Feeding, praticamente Chris Jericho, quando andava a Washington. Ugo che lei sostanzialmente... Era il periodo in cui aveva girato Hill. No, era già Hill. Lui era già Hill nel 97 in WCW. Allora forse era l'inizio, la prima volta. No, perché nel 98 era il periodo della GPS. Le cospirazioni erano prima. Le cospirazioni erano prima. Lei praticamente si è presentata con tanto di lavagna, con i vari collegamenti. Lei praticamente ha dato la colpa di quello che è successo nell'ordine. Naila Rose. Iker Ushida, Chris Atlander, e Dulce Sinfuno praticamente ha detto che comunque loro sono dei co-cospiratori, ma in realtà praticamente il grande vecchio, anzi la grande vecchia in questo caso, che ha coordinato praticamente tutta questa cospirazione, ha i suoi danni e niente meno che Aubrey Edwards. Cioè Aubrey Edwards praticamente sarebbe cospirato per infortunare la povera Bride Baker. dato per vedere il promo, è molto divertente anche quello. Comunque ha detto che tornerà a All Out, penso che andrà per il titolo direttamente a All Out, o prima perché non penso che lei tornerà prima. Ha detto tra l'altro di avere una tibia rotta, ovviamente non è vero, cioè non è assolutamente vero di avere una tibia rotta. è un modo praticamente per accentuare il suo infortunio da Hill, però in realtà sta fortunatamente molto meglio, tant'è che ne ha solamente per due mesi. Iker Ushida ha battuto Christy James, che è questa tenta brasiliana che abbiamo già visto una volta, mi sembra Dark, non Dynamite, o comunque l'abbiamo vista poco in AEW, è un match che per l'altro è stato anche più equilibrato del previsto, con Christy James che ha avuto una buona quantità di offensiva, però comunque alla fine è stata battuta da Iker Ushida con la Falcon Arrow. Cody ha detto che ha fatto un promo dove annuncia che difenderà il titolo TNT ogni settimana a Dynamite, Jimmy Evok e Kip Savin hanno battuto Sky, Scorpio Sky e Frankie Kazarian, Jimmy Evok vince un match con un Michinoku Driver, cosa non avrei mai pensato onestamente di vedere. Ma è la sua finish se non sbaglio. Eh sì, ma Jimmy Evok vince talmente poco che non mi aspettavo di vederlo vincere con un Michinoku Driver. Diciamo che posso andarmene felice, cioè avendo visto Jimmy Evok vincere un match con il Michinoku Driver, avendo visto Jimmy Evok vincere un match innanzitutto, con una sua mostra offensiva. In più, avendo visto vincere con un Michinoku Driver, diciamo che posso, non voglio dire che posso morire felice, però posso andarmene particolarmente soddisfatto. Vittoria che ripetiamo, da una title shot a Jimmy Evok e Kip Savin contro appunto Kenny Omega e M&Page che sarà praticamente, vedremo quando, perché è la prima title shot con i Best Friends, credo che sia la prossima settimana, se ricordo bene. Fatemi controllare un attimo, ma credo che sia esattamente come ho detto. Sì, no, no, scusa, Evok Savin è la settimana prossima, allora i Best Friends sono a Fyter Fest con i vincitori praticamente di questo match. Poi, 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 la Battle Royale, la Battle Royale, ah no, non ho detto una cosa per quanto riguarda MJF. MJF ha fatto questo promo nel backstage, dove comunque ha detto, io sono in testa al ranking maschile, perché non mi è stato stato shot? Perché comunque devo, devo comunque entrare in questa battle, cioè, perché comunque non vengo considerato dal, diciamo, dai piani alti della compagnia, evidentemente sto sul cazzo a qualcuno della compagnia, riferimento probabilmente a Cody, che comunque è un vicepresidente esecutivo insieme ai Bucks, insieme a Omega, dell'AiW. Comunque, vabbè, visto che comunque i piani alti non mi considerano, io entro nella Battle Royale e mi porto Wardlow come, diciamo, come polizza d'assicurazione. Wardlow non l'ha presa molto bene questa cosa, c'è stato un attimo di tensione tra i due, quindi potrebbe già cominciare, non dico lo split tra MJF e Wardlow, perché comunque, conoscendo abbastanza l'AiW, credo che comunque sarà una cosa molto molto lunga a livello di costruzione, quindi mi sa che ci vorrà ancora parecchio prima di uno split tra MJF e Wardlow. Comunque, bene o male, un inizio, diciamo, di tensione tra i due, perché comunque lo split sarà inevitabile poi più avanti, più avanti in AiW, un inizio di tensione, diciamo, tra i due, l'hanno comunque già fatto vedere, vedremo cosa ovviamente porterà. Battle Royale, come abbiamo detto, la vince da vince Jungle Boy, discreta anche come Battle Royale, a fin fine è una Battle Royale, quindi sapete cosa andate in conto quando guardate un match di questo tipo, non è un grandissimo match, onestamente dal punto di vista del lottato e della storia, però comunque l'hanno gestita anche bene, vittoria di Jungle Boy e poi nel main event abbiamo letto l'angle praticamente con Mike Tasso, anche Vicky Guerrero nei panni di cheerleaders dell'inner circle ha fatto la sua apparizione. Ho letto la tagline che le ha messo nell'interno. Mettetevi le cuffie. Mettetevi le cuffie. Esatto, preparatevi, tappatevi le orecchie, credo, anche perché put on your headphones. Esatto, esattamente, esattamente, sì. Ma le AW ogni tanto, ogni tanto, vedi con Orange Cast, vedi con M&Page, ha dei, diciamo, dei sottopancia anche abbastanza divertenti tutto sommato. Non si prendono molto sul serio da quel punto di vista, cioè fanno fanno di sottopancia serie a livello di statistiche, però tipo con M&Page tipo non ridarà mai 10 dollari quello dei previi parti e probabilmente ubriaco in questo momento. Quando c'era Orange Cast c'era whatever come sottopancia, quindi alla fine, ripeto, non si prendono molto sul serio e alla fine contribuisce la cosa anche a tenere un pochettino leggero il programma tutto sommato. Niente, da la settimana prossima abbiamo detto e la settimana prossima abbiamo detto Smackdown abbiamo detto altre notizie della settimana a livello di cose clamorose diciamo del mondo del wrestling no, ci sono due notizie innanzitutto che arrivano dal Giappone la prima tecnicamente non riguarda il mondo del wrestling ma riguarda comunque cioè purtroppo è legata al mondo del wrestling dopo quello che è successo la prossima settimana un attimo che sistemiamo di nuovo il microfono praticamente il Parlamento giapponese dopo quello che è successo comunque il governo giapponese dopo quello che è successo con il caso del cyberbullismo che purtroppo l'ha portata a togliersi da vita pare che voglia accelerare per l'introduzione della legislazione sul cyberbullismo cioè adesso dopo quello che è successo vogliono praticamente accelerare il processo e far sì che entri in vigore una legislazione che comunque punisca il cyberbullismo in modo efficace vedremo ovviamente a cosa porterà l'altra notizia dal Giappone è che lo stato di emergenza è stato tolto e quindi dal 9 giugno praticamente o comunque da poco più in là e sarà permesso praticamente alle compagnie ufficialmente di riprendere praticamente gli spettacoli inizialmente nelle arene vuote però poi dal 1 di luglio con il 50% di capienza fino mi sembra a 5.000 persone poi da fine luglio inizio agosto le arene piene praticamente al 50% ovviamente con la distanza sociale è vero che ci sono compagnie che comunque hanno continuato a fare show in questo periodo a dare vuote vedi la DDT ma anche la DDT la DDT ha fatto uno show probabilmente poche ore fa nel momento in cui noi stiamo agitando il sabato c'è stato uno show della DDT questa mattina all'Arene Vuote però diciamo che non è stato visto nei migliori dei modi un atteggiamento di questo tipo la New Japan in questo momento basandosi su quello che ha detto anche Aaron May ha in questo momento visto che ha detto noi aspettiamo che venga tolta l'emergenza poi vediamo di ripartire con show in Arene Vuote show diciamo e show comunque magari anche negli Stati Uniti al dojo di Los Angeles vediamo di ripartire in questo momento tecnicamente la New Japan ha l'ok cioè comunque essendo venuto meno lo stato d'emergenza in Giappone da questo momento la New Japan avrebbe la possibilità di ripartire quindi vediamo adesso cosa succede vediamo cosa decidono pare che tra l'altro il G1 pare che sarà comunque in autunno a questo punto pare che tra l'altro Hiromu Takashi sui social abbia diciamo si sia fatto particolarmente abbia diciamo proposto l'idea di fare il G1 Climax e il Best Super Junior in contemporanea cioè praticamente fare gli show del G1 praticamente e fare le card praticamente metà con il Best Super Junior metà con il G1 Climax vediamo non è una brutta idea non è assolutamente una brutta idea diciamo che ti togli ti togli magari qualche junior dal qualche diciamo la possibilità di avere dei junior nel torneo però allo stesso tempo non è male perché per esempio Will Osprey gli toglie la possibilità di fare il G1 o fa il G1 o fa il Junior praticamente è solo heavyweight adesso si è vero però per dire un atleta di quel tipo sostanzialmente gli togli gli togli dal G1 Climax tipo come l'anno scorso e l'hanno fatto Osprey e Shingo esatto esattamente intanto vedo che ci ha raggiunto Gianluca si per i saluti finali praticamente no vabbè possiamo parlare ancora un attimo con lui di Dynamite se vogliamo però buongiorno Gianluca intanto buongiorno tutto posto? che arrivi arrivi un po' diciamo affannato tutto posto? no 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 con la moto sono arrivato ora quindi è dovuto saltare tutto no ok no dicevo comunque l'accordo che no praticamente è ferma fino al 15 quindi non sarà il 15 giugno non sarà disponibile inizialmente quantomeno per vari degli eventi comunque sostanzialmente la possibilità adesso che la Ninja Pen ricomincia a far show è alta cioè comunque è alta e vediamo a cosa porterà meno male perché comunque la Ninja Pen è ferma la Ninja Pen è ferma a febbraio e onestamente parlo per me personalmente un po' di voglia di vedere quel tipo di prodotto ce l'ho in questo momento perché comunque è quattro mesi che bene o male di Ninja Pen non c'è niente a livello di contenuti nuovi no vabbè abbiamo parlato di Dynamite volevo chiedere però l'opinione di Gianluca sulla puntata e sull'engolo in particolare che è stato fatto a Dynamite con Mike Tyson vai Gianluca sì eccomi la roba di Tyson che c'è da dire è tutta pubblicità esatto conta i tre che si è portato dietro per me a livello di lottato comunque di conta i tre che ha portato bisogna vedere se faranno qualcosa però questi tre non è detto perché mi sembra che l'attrattiva l'attrattiva principale sia Jericho e Tyson tra l'altro pare che Jericho non sapesse nemmeno che Tyson sarebbe uscito con quei tre lì praticamente a fare l'engle praticamente no i tre non li sapevano fino al giorno prima non lo sapevano comunque uno si è autato che è l'ex UFC fighter un match con Heiger lo fanno per un solo motivo sono gli unici due più notabili chi scusa? chi scusa? oddio Segudo? l'ex UFC sì quello che si è ritirato da poco sì che va detto l'unico che può fare il wrestling è lui che va detto non ci crede nessuno che sia ritirato cioè è vero che Dana White ha detto che adesso gli toglie il titolo però in realtà non ci crede nessuno che lui sia veramente ritirato dalla UFC quella è l'unica cosa lottata che vorrei vedere con Heiger quello potrebbe essere buono però ripeto con tutto rispetto credo che l'attrattiva principale comunque anche a livello di grande pubblico è chiaramente Tyson è chiaramente Tyson contro Jericho e chiaramente Tyson contro Jericho l'angolo in sé come ti è sembrato l'angolo in sé la prima parte del peparelli uguale a quello Tyson-Ostin assolutamente identico no però intendevo la prima parte a livello di esecuzione la prima parte quella con il peparelli dell'inner circle molto divertente quella con Tyson sì copia quanto vogliamo non granché a livello di pura esecuzione intendo Gianluca no l'effetto che mi ha fatto Jericho che parlava di Tyson che se ne fotteva è quello che fece Miz con Lonzo Ball scusa con Lavar Ball col personaggio davanti che non gliene frega niente deve fare facce smorfi qui faceva facce e muscoli però è Jericho non è Demiz la differenza è tutta lì per me è un po' l'equivalente solo che non era Lavar Ball ma Mike Tyson e non era Demiz ma Chris Jericho poi come impostazione hanno fatto pari pari con il 97 sì quindi c'è da capire che fanno un bel tutti o un tutti contro tutti e poi Tyson Jericho oppure fare subito Tyson Jericho e potersene di tutti indietro bisogna vedere cosa bisogna vedere cosa quando sarà a livello temporale penso che Tyson e Jericho lo fanno lo fanno all out all out perché comunque il baby baby l'anno anche per loro ma fighter fest puoi mettere Tyson con qualche rest e qualche suo amico contro bisogna decidere quando è prima fighter fest perché in questo momento non abbiamo ancora una data ha detto solo più avanti durante l'estate non ha detto quando quindi bisogna prima valutare la data fino a luglio ti direi sì anche luglio inizio agosto anche luglio diciamo se vogliamo alla fine guarda mi ha detto adesso l'acqua e ho un attimo di tosse in questo momento mi sta rendendo complicato il parlare è perché vuoi Tyson che sputi l'acqua fuori da Jericho no non credo non è quella la mia la mia intenzione lo stritola per tagliere tutto l'eccesso o acqua che ha Jericho da Tyson no dicevo volevo volevo portare diciamo volevo portare a volevo portare a comunque è semplice una mossa totalmente per farsi notare punto e avere Tyson che comunque ha fatto il suo l'ho detto prima con Mattia non so se tu sei d'accordo è il momento adatto per fare una cosa di questo tipo perché non c'è ancora lo sport in America quindi c'è bisogno di argomenti probabilmente questo è un momento adatto anche se non c'è il pubblico nelle arene per diciamo per per fare un angle di questo tipo cercare di far parlare di sé vedremo se se funzionerà naturalmente questa è la mia la mia sensazione io aggiungo anche una cosa detta da un certo dottore se vuoi mandarti over come AW visto che di là comunque non è che stiamo andando male a livello di prodotto in ring ti servono le star se non le hai buon avere Tyson cioè tutti i contenti dell'FTR FTR FPU quello che vuoi Tyson ti porta almeno un cento l'ha portato Tyson e te lo portere ancora bisogna vedere bisogna vedere quanto è stato effettivamente il bump post pay per view del tipo ok non ho visto pay per view vediamo vediamo quali sono i diciamo i risultati no anche c'era Tyson presentato in card già dal giorno dopo c'era già Tyson apparirà eh lo so magari non tutti l'hanno messo adesso lo metteranno diciamo la cartina torna sole dell'interesse per Tyson e per l'AW sarà mercoledì mercoledì quando anche se la puntata è registrata quindi magari andranno anche un pochettino giù rispetto a questa settimana a livello di ascolti diciamo diciamo che potrebbe essere una buona un buon modo per valutare il seguito praticamente di questo di questo angolo a livello di interesse quantomeno non abbiamo parlato di un'altra storyline minore che si sta nascendo a io quella del tag non l'ho capita ma va bene vado avanti in che senso vai la roba che hanno fatto con Meg e Gerico scusa con Meg e Page che sono seduti sul divanetto e non fanno niente no allora allora farceli vedere non fare nulla non l'ho capito cioè non dici qualcosa così allora semplicemente esatto no semplicemente semplicemente loro volevano tu dici il segmento in albergo tu dici o l'altra cosa sì quello che allora allora l'inizio ci stava il fatto prendo andiamo via esatto allora quel segmento lì loro hanno ammalato in onda durante la pubblicità in America e tra l'altro non c'era neanche su Fight non c'era l'audio praticamente loro praticamente cioè loro praticamente hanno preso si sono presi un po' in giro da soli credo che sia diciamo l'angle che hanno fatto cioè praticamente loro hanno ha detto noi durante durante il break pubblicitario ci collegheremo con l'albergo di M&Page e di Kenny Omega vi faremo vedere cosa stanno facendo e diciamo come cioè sono tratti in albergo vediamo cosa stanno facendo praticamente solo che loro cioè l'angle praticamente era loro si sono collegati con l'albergo dove c'erano Page e Omega perché avevano una telecamera e Page e Omega stavano guardando Dynamite in televisione e ad un certo punto dopo qualche secondo quando si sono guardando la puntata in televisione ad un certo punto si sono accorti che erano in camera cioè che erano praticamente ripresi e quindi hanno cercato di capire dove era dove era la telecamera e M&Page è andata a cercarla a fare diciamo a fare un po' di faccia a fare un pochettino di cose erano un po' sorpresi praticamente di essere di essere stati ripresi a loro insaputo tant'è che anche M&Page ha fatto un tweet dove dicevo dove ha detto praticamente da quanto tempo ci vorrei dire questa telecamera ditemi per favore che non era accesa all'uno di pomeriggio perché evidentemente ha fatto cose all'uno di pomeriggio non vogliamo sapere cosa ha fatto però diciamo secondo me alla fine non ci vedrai niente di più semplicemente ci sono presi un po' in giro con questa storia di mandare in onda il racing durante le pubblicità praticamente con il riguardino che tra l'altro fanno anche loro quindi comunque è stato un modo praticamente di ironizzare un pochettino per far vedere all'inizio devo parlarti per fare quello che ho fatto iniziale semplicemente hanno fatto l'intervista a Baxter Page ha detto guarda ti ho aiutato qui non serve un cazzo prendo e vado in albergo e Omega ha detto dai ti seguo ti seguo vengo anch'io ti faccio compagnia e poi più grado è stato un bond esclusivamente per farci vedere per fare quella scena lì che è una scena per la fine che lascia il tempo anche per fare in modo che Bax fosse solo da soli esattamente esattamente per consentire praticamente l'attacco sono arrivati posso già dirlo siccome l'internet è esploso nelle sue ovaie webiane sono arrivati quindi già miglior match team dell'universo prima facciamo quello di fare poi vediamo perché mi sa che anche qui sarà una cosa un pochettino è già stato votato è già stato votato è troppo tardi le votazioni sono già state fatte da Inter con 92% ma non è vero ha già vinto a Chiar con 3 ambas smettila no dicevo l'altra storyline che stanno cominciando a portare avanti è Ellie aka Dobbani che la sta battendo a Cutie Marshall che è una cosa che lontano che c'è il marito a 3 metri è una cosa abbastanza abbastanza bizzarra totalmente me ne frego l'hai detto molto la felt è carina credo che sia più un modo per arrivare poi a Cutie Marshall e Dustin contro Butcher e The Blade però vediamo The Butcher e Blade vabbè c'è bisogno di fare una cosa nelle categorie tag è una faida è lì così boh non lo so decisione loro vediamo vediamo cosa fare non è una cosa importante alla fin fine però comunque è una cosa in più questa notte purtroppo il titolo youtube non l'hanno ancora modificato spero la prossima settimana lo stanno finendo lo stanno finendo praticamente però veramente sembra una placca di youtube non è un titolo eh vabbè non è finito sembra Cody Ross ha ricevuto la placca per i 200.000 iscritti aspettiamo aspettiamo la versione finita del titolo ci sono dei concept anche carini sul web di come dovrebbe essere la cintura purtroppo non faranno la versione che è suggerita MJF cioè la versione con praticamente con le placche dorate e con il motivo della sua sciarpa che è anche abbastanza carino e lì quello mi ha sorpreso è l'unica cosa che mi ha sorpreso totalmente il fatto che già adesso cominciano a mettere i semini eh sì per lo split lo dicevo prima l'inizio della tensione tra Cody e Warlock conoscendo l'AW sarà come al solito la solita storyline che loro comunque lasceranno maturare nel tempo se c'è una cosa che l'AW fa sono le storyline a lungo termine quindi mi sa che comunque iniziano adesso a gettare il semino però non se ne riparla prima di 5-6 mesi Warlock alla fine l'hai visto due volte cioè con Cody e Dark no è vero però intanto l'hai stabilito comunque come come diciamo polizia di assicurazione di MJF alla fin fine cioè comunque il suo ruolo in questo come Diesel praticamente per Shawn Michaels cioè comunque lui ormai è stabilito perché tutte le volte che hai visto MJF c'è sempre stato anche Warlock di fianco quindi ormai lui è stabilito ma Diesel da differenza che Diesel sul ring ce l'avevi visto otto volte aveva avuto otto opportunità ti era nato il seme di dire probabilmente tolto Diesel Michael X sì sì no però diciamo che comunque non l'hai visto poi tante volte in più se andiamo a vedere rispetto a cioè in proporzione naturalmente perché comunque per dire dal 2000 bisogna anche dire questo hanno sempre abortito i tentativi vabbè non l'avevi tutti esatto non ci sono stati tanti Diesel Michaels questo è un ripoff non lo so Warlock è assolutamente solo al fianco sì è assolutamente non lo so come è assolutamente è assolutamente buonino è assolutamente quella dinamica naturalmente poi vediamo cosa sì diciamo è la casca powerhouse alla fin fine Warlock alla fin fine non c'è eh io lo vorrei vedere perché con Cody con tutto che è Cody c'era 36 Gabby Interference fu godibile anzi buono sì Dark beh quelli che ho visto di Dark è quello che non mi ha convinto di più inizia la Statlander cioè lui però al giudizio lo aspetta perché comunque era il terzo match tornando per esempio al 26esimo non mi dice nulla lui è il terzo vero voglio vederlo se gli danno un'opportunità magari al TNT ecco lì magari il banco di prova sarà magari mandarlo col TNT title una volta e dice ok questo è bravo allora si può costruire volevo chiedere a te cambiano argomento cosa pensi dell'angle poi chiudiamo su questa questa puntata perché comunque non c'è molto altro raggiungere per questa settimana cosa pensi dell'angle che hanno fatto Smackdown con Jeff Hardy uno conoscendo è un discorso già fatto perché per esempio nelle varie settimane si sono detti e qui fanno un ricordo di tipo io prendo due esempi che si sono citati sul grande internet quando Orton Edge fecero quella con la parte nei match tutti a dire citano quella cosa lì o fanno quel riferimento e quello di Ardico l'acqua si è parlato l'altra settimana che butti sotto l'acqua qui il riferimento è proprio personale perché comunque Jeff Hardy è arrestato e uno dice beh che novità no la differenza l'ho detto prima non capisco la paura che ho letto sono d'accordo perché comunque in quel roster c'è ancora Corby stiamo andando verso l'estate e l'autunno perché un altro bel gruppo a Corby no non credo però sinceramente non servire da nulla perché perché AJ dovrebbe allearsi con Corby per dire ma infatti questo non ha senso te lo dice uno che ha visto 66 volte Corby qui ci basta Shemus o AJ Styles da solo mi sembra un modo per non far vedere Elias sul ring alla fine l'ho visto come ok Elias sul ring fa schifo non lo facciamo questo match e fargli Shemus e ha bisogno di un altro po' di pepe allora io credo che alla fine verrà rivelato che sarà AJ Styles dietro tutto quanto AJ Styles vincerà vincerà contro Brian il match per il titolo intercontinentale poi faranno o Elias prima come diciamo come come fight di transizione poi Jeff Hardy o comunque entrambi le cose alla fine il discorso si sono levati il match probabilmente Styles e Elias non lo volevano fare per molti motivi hanno detto così risolvi questo in più ci butti Jeff Hardy può fare molte cose sia con Shemus che con Styles più che altro per quanto riguarda l'angle di Jeff Hardy l'ho detto prima la differenza sostanziale tra quello di Matt Harvey in acqua e quello di Edge Orton con i pesi e lì e lì sono citazioni no 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 infatti il fatto che comunque in questo il protagonista della storia sia presente cioè comunque Jeff Hardy comunque è presente in questo in questo angle ed è comunque una situazione che è sua alla fine a livello di vita privata poi ripeto io ho trovato di cattivo gusto perché c'erano altre cose nel mondo anch'io anch'io c'era una certa rivolta in quasi tante città secondo me lo dico lo dico lo dico lo dico lo dico secondo me non c'entra un cazzo con le rivolte no 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 ma non mi piace a me come gusto cioè vedevo in tv quello e invece Jeff Hardy con dei poliziotti ok no no credo se è quello io credo se posso ti fermo poi ti lascio parlare Mattia ripeto ripeto quello che ho detto prima è di cattivo gusto più che altro perché è una situazione privata sua che comunque è problematica perché comunque ha avuto due problemi di quel tipo il fatto che diventi una storyline non è una cosa di cattivo gusto non è una cosa diciamo ottimale dal punto di vista del buon gusto detto questo lui è il protagonista della storyline e evidentemente a lui sta bene almeno però ti aggiungo una cosa vai comunque la storyline che stanno raccontando con Jeff da che è tornato a Raw a Smackdown è proprio anche questa è il suo volersi redimere da quello che è successo quindi secondo me può anche essere però tu hai descritto una ricaduta di fatto ieri sì sì però non è una ricaduta in realtà lo hanno incastrato sì chiaramente hanno incastrato ovviamente però diciamo ripeto certe cose cioè proprio fare un angle di questo tipo quantomeno così non voglio dire dettagliato però comunque con quelle immagini con quell'ambientazione ripeto secondo me rimane di cattivo gusto poi ripeto lui è nell'angle lui evidentemente non ha problemi nel fare una storyline di questo tipo io alzo le mani personalmente già è già una situazione qui non è trash è già una situazione molto diversa rispetto a quella delle altre due perché comunque le altre due per motivi diversi posso comunque capire che qualcuno si sia offeso effettivamente quello di quello di Edge Orton ha ricordato effettivamente quello che ci fosse con Benoit e quello di mattarvi anche se è un angle comedy alla fin fine ci sono parti dell'angle che comunque possono essere state giudicate diciamo non come posso dire non non sensibili quantomeno nella settimana nella settimana in cui era negato il popolo lo capisco è il mio gusto sul giusto lì ci si può dividere no perché poi va va a funzionare appunto la storyline ci sta a livello di non è una cosa buttata lì trash a caso la storyline è questa persona si è stata presentata in un certo modo e Schimus continua a dire perché gli date questa opportunità che è x y z si si o comunque Styles ti farà vedere non è così lo vedete è full sample è facile no semplicemente verrà fuori che è stato lui magari sarà l'hacker a rivelare che c'è lui dietro praticamente tutto quello che ancora vivo l'hacker vediamo vediamo un po' rivelerà magari che c'è lui dietro a tutta questa situazione e poi ci sarà i gestis contro Jeff Hardy comunque ora ho capito il motivo per cui ci sono i più grandi tech team del 22esimo secolo nel main event titolato non me lo ricordavo del secondo figlio di eh si l'abbiamo detto prima l'abbiamo detto prima abbiamo deciso di fare così ora l'ho capito perché tra l'altro i VIP danno tutti dei nomi bizzarri ai propri i propri figli lascia stare che Elon Musk ha vinto Elon Musk Elon Musk ha vinto tra l'altro Elon Musk gli han detto cambia il nome di tuo figlio che per le regole non diciamo non 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 può mettere il numero pronunciava il figlio di Elon Musk ah l'aveva detto cazzo non mi ricordo come si pronuncia il nome praticamente sexy eh sexy 12 sexy 12 si non è sexy scusa non è sexy avvi pazienza non credo che sia no c'è le due x vanno pronunciate in una barriera però a me mi sembrava sexy allora la pronuncia allora la pronuncia è xash e i 12 praticamente o xai però il nome è stato giudicato illegale perché praticamente contiene dei caratteri e 12 non si può mettere no si e 12 non fa parte dell'alfabeto moderno inglese quindi hanno cambiato in xash e i 12 però in numeri romani cioè xii praticamente però anche anche come si chiama lui Wyatt alla fine già normale ecco lui si chiama Wyndham Rotunda Wyndham Rotunda praticamente ha anche lui ha dato il nome praticamente di suo figlio di sua figlia anzi chiedo scusa perché è una bambina si chiama Hairy Hairy Von Rotunda credo che si chiami una cosa credo che Hairy Von ma non è dai hai sentito di peggio diciamo che tanto conoscendo la famiglia che ha quei nomi va bene è un nome molto tedesco ricordati che lui ha lui ha praticamente il cognome del migliore amico del padre si è vero è vero infatti si chiama Wyndham Wyndham esatto esattamente il primo invece si chiamava Knash credo Knash 6 esatto Knash 6 Rotunda quello che è nato a maggio dello scorso anno comunque abbiamo capito perché è tornato bene a fare l'abbiamo detto prima probabilmente era per quel motivo che lui comunque è sparito dalla circolazione e comunque alla fine come tu ho detto però alla fine ragionandoci in storia incista anche dargli un mese per dare a Strowman una vittoria in più mettiamola così in più danno è l'avversario giusto diciamo la verità poi dicevo praticamente la notizia invece che è uscita oggi un'altra notizia interessante che credo possa interessare parlando di libri quantomeno legati al mondo del wrestling Abraham Reisman che sta scrivendo o ha finito di scrivere una biografia dedicata a Stan Lee che si intitola True Believer che uscirà tra non molto praticamente ha firmato un accordo per scrivere una biografia che uscirà nel 2022 legata al mondo del wrestling chi è secondo voi il personaggio Vince McMahon uscirà una biografia nel 2022 che si intitolerà Ringmaster che sarà pubblicata da Simon & Schuster che è comunque uno degli editori più importanti americani praticamente inizia a scrivere questo libro nel 2022 uscirà la biografia di Vince McMahon può essere molto interessante sicuramente sarà non ufficiale quindi figuriamoci cosa uscirà praticamente all'interno magari il suo ghostwriter magari la scrive insieme a Vince no non credo sai diventerebbe una biografia a quel punto se lo scrive con un ghostwriter e l'intervista direttamente a Vince perché secondo me contando che non è credo una roba legata alla WWE secondo me Vince non darà mai credo che sarà una roba rigorosamente non ufficiale comunque si prenderà dichiarazioni di Vince McMahon nelle varie interviste che ha fatto durante gli anni però credo che andrà anche a cercare personaggi che magari ha lavorato con lui però non credo che i McMahon in generale a meno che non esca proprio una biografia ufficiale doveva uscire una biografia se non sbaglio è stata credo cancellata completamente che il titolo originale doveva essere Lady Balls se ti ricordi bene e credo che sia stata cancellata totalmente diciamo a livello di uscita quindi non credo almeno per un po' credo che non la vedremo però doveva uscire se non sbaglio sì doveva uscire era comunque in lavorazione poi è stata rinviata poi è stata posticipata e poi è stata cancellata credo che non è scappato non mi ricordo non mi ricordo se era Lady Balls cioè Lady Balls era il titolo era il titolo originale credo e poi avevano cambiato il nome praticamente avevano cambiato il nome chiedo scusa il titolo praticamente del libro e non mi ricordo come non mi ricordo non mi ricordo il nome definitivo praticamente che doveva essere che doveva avere praticamente il libro vado un attimo a cercare se riesco a a beccarlo praticamente ah eccolo qua era diventato Unreal Inside the Crazy Fan Show Fan Show Business World of WWE cioè doveva uscire praticamente doveva uscire praticamente da parecchio cioè doveva uscire praticamente nel 2017 questo 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 libro ed è stato possiamo siamo nel 2020 ancora non si fa non si va vedere tant'è che se vanno a cercare su Amazon non lo trovate praticamente questo questo libro quindi mi sa che credo che sia stato proprio cancellato completamente questo questo libro e non al momento non ci sono piani per una sua per una sua uscita non ho nient'altro da nient'altro da aggiungere praticamente non so se avete qualcos'altro da aggiungere a livello di no 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 a livello di news tutto a posto ah niente allora direi che possiamo direi che possiamo allora fermarci per quanto riguarda questa questa settimana io ringrazio Gianluca Rouge che ci ha fatto compagnia nella parte finale di trasmissione ciao Gianluca alla prossima grazie una puntata veloce ma ricordatevi il miglior per più di sempre e la tagline dell'anno ok grazie a Mattia di noi grazie a voi ci sentiamo la prossima puntata ricordiamo gli appuntamenti martedì alle 22 il post Monday Night Raw e poi avremo live reaction non so se la si fa per per takeover per takeover non lo so bisognerebbe chiedere a Max ma ha detto che era indeciso sulla cosa quindi bisogna vedere all'ultimo comunque martedì l'appuntamento con l'appuntamento con non mi viene la parola con il post Monday Night Raw con Crossing Cafe by Night tra domenica e lunedì prossimo l'appuntamento con un'appuntamento di Crossing Cafe e poi immediatamente dopo takeover takeover in your house quindi nella primissima mattinata di lunedì una roba che una roba che ha detto Dario che mi fa molto ridere ma da quando da quando Adam Pearce prende le decisioni nel backstage vi ho risposto da un bel po' da un po' sei tu che non te ne sei accorto da un po' abbiamo rivisto anche Jason Jordan abbiamo rivisto ieri sera tra l'altro è uno di quelli che è andato a soccorre insieme a Jamie Noble Jeff Hardy dopo l'incidente esatto dicevo quindi martedì l'appuntamento con il post show di Monday Night Raw tra domenica e lunedì nuova puntata di Presti Caffè poi lunedì mattina la nuova puntata di a botta calda subito dopo takeover in your house e poi per chi ci ascolta mercoledì è un secondo che provo a scrivergli vediamo se mi risponde in fretta ok e poi ogni domenica ogni domenica e mercoledì almeno finché non ripartirà il campionato continuiamo con il nostro fantacampionato di PES direttamente su Twitch twitch.tv slash punte di cento ti risponde Max ma non credo aspetta vediamo in diretta in questo momento dove stiamo registrando non lo so vabbè vi aggiorniamo sicuramente saremo la live reaction di Backlash domenica domenica nella notte tra domenica 3 domenica 14 lunedì io ho fatto in modo di andare in palestra non in lunedì ma in martedì per poter assistere a questi grandi momenti per vedere un Arche bravo va bene grazie per averci ascoltato fino a questo momento come detto con Wrestling Cafè torniamo tra domenica e lunedì prossimo buona settimana fate i bravi alla prossima stai torn stai torn stai torn stai torn